buonasera allora dovrebbero sentirci ciao un attimo adesso ci sentono sì 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 ci sento tutti 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 sento tutti da tutte le parti ovunque del pianeta buonasera ragazzi buonasera a tutti bene che è successo che prima ci sentivano perché stiamo stream anno stasera col secondo computer che era una cosa che non facevamo da mesi mi sono dimenticato mai perché non lo facciamo da mesi a così per riscolterare perché c'ho il computer che mi devo portare a casa prodori portare studio poi a casa poi studia perché mi sono dimenticato di fare fallito al computer rotto ho capito e ogni tanto succede che compramelo cioni mi sono dimenticato di fare una minchiata e quindi si sentiva fuori la nostra voce e la prossima volta sarà a posto per qualche poteva andare peggio ragazzi non abbiamo detto niente di particolare esatto dal punto di tanto grazie si domina per i 100 milioni basta mi sto zitto parlate allora ieri si è concluso durante in realtà l'abbiamo superato durante la live di domenica con giovanni il gol di agosto di 1850 quindi ufficialmente e ci è partito il progetto ha un nome questo progetto marco ciò che non lo vi live short movie live ma che 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 creatività pazzesca questo canale scrive un team di quante persone ha elaborato uno marco che buono bisogna essere chiari perché se io ti dico short movie live cosa pensi subito e penso a una short movie la una un corto realizzato in live infatti e infatti quello che succederà sarà proprio questo seguiteci poi anche soprattutto domenica 5 cioè questa domenica perché faremo uno dei nostri twitch day cioè le nostre giornatine con 12 e più ore di live alla fine della quale spiegheremo per file per segno come funzionerà questo progetto e come voi potrete partecipare perché voi sarete l'essenza di questo progetto ma per adesso non diciamo nient'altro anche se poi abbiamo già detto ogni tanto qualcosa quindi mi raccomando domenica tanti ospiti esatto prima di partire con le opinioni facciamo un recap di quello che succede domenica allora si parte le 10 e mezza per andare avanti per 12 ore la live ragazzi sarà interamente per beneficenza in collaborazione con l'associazione italiana scherosi multipla quindi tutti i soldi che raccoglieremo quel giorno in quelle 12 ore andranno direttamente a terzo tiltify a laism detto questo si comincerà con un bel quasi quiz avrei quasi quiz royal che quindi per tutto il giorno ci saranno tre momenti di scontro e quasi quiz in cui non diciamo tra noi dai più esperti di cinema su youtube italia cioè khalem victor laszlo matti osky e violetta rocks si scontreranno tra loro una specie di royal rumble per arrivare a vincere ad essere il re del quasi quiz e quindi essere incoronato perché poi noi decidiamo chi è il più quello che ne sa di più di cinema su tutta youtube italia assolutamente si ed ecco tra l'altro poi avremo ospite un ride per il come live che sarà diciamo dopo la prima sessione di che c'è mauro è anche bello sono contento avremo ospite moon nel formato bruschettina ragazzi bruschettina quindi avremo murray d'ospite per un come live hanno fatto e ci saranno due sessioni di opinioni pericolose una con gli utenti che saranno giudici ci scontreremo noi e un'altra quella preserale intorno alle verso sera adesso non ricordo bene l'orario poi c'è trovate tutto il programma sul nostro diciamo sulla nostra home di twitch e come non tu ricordi hai scritto te e come non tu ricordi hai scritto te non mi ricordo l'ora non mi interrompere non mi ricordo l'ora avremo una sessione di opinioni pericolose con il team di every eye il buon fossa si sfiderà contro marco due persone del team di every eye si scontreranno tra loro e quindi scorrerà del sangue metteremo della zizzania all'interno del team di every eye mentre noi daremo solo un supporto allora stiamo a mangiare rapporti lavorativi che vanno avanti da anni a parte chiederci se ricaricheremo la giornata su youtube marco questa sera tu effettivamente ma non so se dipende dal computer di giovanni scoppietti alquanto ma non c'è lui quindi il mio computer si si è marco e scoppia quando parli scoppiettini scoppiettini scoppi ecco se levi le cuffie però provo a parlare spieghi e di se ricaricheremo la live su youtube la live non credo sarà ricaricata non lo so se non lo sei una domanda a marco al massimo intanto ma adesso sembra di no al massimo verranno ricaricati solo alcuni segmenti i classici strati cioè nel senso ci sarà una live in cui estraeremo delle cose i classici avevo già prima che tu cominciassi che stai per dire una cosa tristissima oggi adriano sul nostro instagram ha fatto penso la storia più boomer della storia di disney dogs qual è quella in cui facevi finta di provare i era boomer e ben amore adriano era tremendamente boomer infatti al certo punto infatti a me ha fatto ridere quindi ho notato che stavi usando tipo i nomi di cose legate al mondo delle macchine ho notato a un certo punto tra gli incantesimi no 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 sestri levante è un posto va bene è un comune volante sestri levante è un comune della le albergo della lombardia la totale ignoranza esatto io più che io boomer penso che poi avete proprio delle grosse lacune culturali nella vostra vita ma io sono apposta adriano a me ha fatto ridere allora assiste e a questo che facciamo facciamo arrivare l'utente di questa sera perché a proposito di harry potter della storia su instagram oggi marco cioni che cos'è oggi è il primo settembre e come tutti quelli fissati con harry potter come me mauro zingarelli sanno il primo settembre è il giorno in cui si torna ad hogwarts e non solo back to school ad hogwarts e non che quest'anno è il ventennale dall'uscita della vita filosofale e quindi potevamo noi esimerci dal fare una opinione pericolosa a tema a harry potter oggi non poteva adriano stanno dicendo che comunque anche se ti sei sbagliato perché l'illiguria era di preciso non lo sapevo comunque no non c'erano macchine nel quello che è bel supermercati forse su queste signori che siano di supermercati e supermercati posso dire una cosa socialmente vedi vedi però ragazzi c'è ti vai aumenti le views quindi c'è boomerun cazzo qua è tutta strategia una cosa socialmente inutile perdonatevi intanto ringrazio scinomina s che due ore che dona bit grazie mille per i grazie che sono il tifo che si utilizza su traccia volevo salutare violetta rocks che oggi e le sue storie si lamentava del fatto che è andata a vedere un film il film l'ultima cazza della marvel che è uscita e si lamentava del fatto e si lamentava del fatto che molte persone in sala anche se erano poche non tenevano la mascherina oi ragazzi da qualche giorno è uscito uno spot bellissimo che si chiama ritorno al cinema diretto da un nostro caro amico che loro hanno seguito lo sport vincenzo alfieri ci lo hanno seguito lo spot diretto da vincenzo alfieri ragazzi stiamo tornando al cinema i protocolli del cinema impongono per adesso di tenere la mascherina in sala se non volete vedere la mascherina in sala non c'è andata al cinema perché le persone che sono chiuso in generale quello però quando va io stesso sopra del cinema si tiene la mascherina te la bassi quando ti metti in bocca ue pop corde che spero di vada ogni traverso e dopodiché te la rimetti perché sennò poi se beccate me io urlo dentro la sala non bevete pop corn anche semplicemente volendo particolare momento detto questo chiudo allora grazie fede narci che dice che ha interrotto la visione di harry potter per seguire questa nostra live di questa sera prima di iniziare come ultima cosa giovanni ringrazia qualcuno che si è abbonato adesso faccio io ce l'ho fai vai vai ci sono allenato coi nickname mc 13 si risuva per il decimo mese e quindi dice grandi cani diego underscore la padula si risuva si suba contame quindi benvenuto wandervals benvenuto perché si è subito per la prima volta c nomina s si risuva a livello 1 per il sesto mese rosso il 20 94 si suba per il decimo mese l'autocoscienza è da un anno che subito con noi quindi dagli alessia fiocchetti per il settimo mese irene 444 benvenuto che la prima volta si suba con prime bel gioiosa per il quindicesimo mese di fila leak pack per il quindicesimo mese di mila giaco andesco al fortuna per l'ottavo mese la regina degli scazzi livello uno settimo mese di fila frank never ma tra l'altro una sub frena neve la regata una sub cushion le scorte h due mesi o di aumentano mentre i leggo dvd decimo mese ma matte gmi 95 11 mese poi davvero ma giovanni ha fatto caso che più più invecchia marco cioni più dice le parole quelle adesso sono tutti sub si sub intanto a proposito è finito il sondaggio lo so ma la merita si iscrive è finito il sondaggio adriano che diceva adriano è stato boomer nelle storie il 56 per cento dice sì il 44 per cento dice no ma fa ma questo per sicuro 42 per cento del nostro nostra utenza è comunque boomer adriano no no io sono come invece sicuro che quel 56 due terzi non l'ha neanche vista quella storia ma sicuramente comunque io sono perché perché stare su instagram e da boomer stanno tutti su tik tok io sono boomer e sono felice di esserlo mai facciamo entrare visto che c'è il primo ospite di questa sera che porta per l'appunto la sua opinione su harry potter facciamo entrare riccardo riccardo dove ricca aspetta che premo riccardo ciao riccardo ciao 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 perché mi ricordo di te riccardo perché è già avvenuto perché lui è già avvenuto mesi fa fa che ho parlato di sempre qua che non ti piaceva radio player one vero ecco perché mi ricordo di te con odio non verso scherzando riccardo allora riccardo ripetici per chi magari non ti ha visto quella volta tutti chi sei da dove trasmetti digitalmente io sono riccardo sono da trieste e adesso provando a milano a studiare ok per l'università riccardo ci chiama direttamente dalla primissima cameretta di vj se non se non ricordo male è più o meno la stessa a di fa vj per i colori sono quelli blu e arancione è vero è vero anche la serie che non c'è un caso è un caso solo io non conosco la stanzetta di fa vj mis adesive ma cosa cosa vai a studiare riccardo a milano vado a studiare tecnologie musicali alla civica bello figo infatti si aveva una sonora per il cortometraggio che farete adesso dice che anche lo stesso audio dei primi video di farmi a mi spiace che dice che deve ancora studiare tecnologia che ora capito esatto cosa dicevi della colonna sonora riccardo scusa anche volendo vi posso fare la colonna sonora per il cortometraggio che farete adesso adesso la tue ricordo due cose uno intanto tu manda se vuoi una mail con robe che hai fatto a info che ho già sentito lascia un punto come perché non fa mai male avere potenziali collaboratori 2 noi avremo una persona che farà per la progetto insieme a noi questo show se ce l'avrei che è il buon sa idonia che sarà live con noi questa domenica per spiegarvi come si svolgeranno i prossimi mesi per questo porto che faremo in live se non so se voi lo sapete ma il buon sa idonia è anche un compositore musicale quindi io non mi fermo qui non ti fermi non ti fermi ma si fermo qui ma riccardo tu mandaci qualcosa perché fa sempre come diceva marco a mandare bello avere no mandaci vabbè poi se ci vuoi mandare una bistecca io un meramento però ci mandi a mangiare prendiamo il tuo curriculum in considerazione maggiore aggiorni allora riccardo se ci mandi vino e birra voglia lavori con noi sicuro come sempre come ben sai ormai questo è l'angolo per poter parlare di tutto quello che invece nella vita vera uno che uno si tiene dentro perché sa che sostanzialmente è molto pericoloso andare in giro a dire queste queste cose e quindi ti prego dici a noi queste cose e quindi dici a noi questa sera la tua opinione pericolosa qual è so essere un'opinione molto controversa infatti mi definiscono intera saga che la ritengo la migliore del suo genere di genere fantasy ovviamente sto parlando di harry potter quindi harry potter migliore saga fantasy di sempre ma anche rispetto a a saghe tipo di sé anche saghe animate anche saghe animate tipo si in realtà non c'è più riferimento ai film però posso sostenere anche contro le saghe animate anche saghe animate attenzione attenzione che fanno i film nei film si parla pure i saghi anima c'è anche un film è una roba animata e no 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 saghe animate intendo che ne so tipo dragon trainer sono film quindi dai sì ok allora allora dobbiamo fare le squadre per poi fare il pronostico giovanni io vorrei che tu difendessi questa opinione opinione via perché c'è il castello qua dietro perché perché ha il castello là dietro mi sento che tu puoi essere abbastanza vicino a riccardo cioè in realtà no non può essere però voglio vedere cosa combina bene ma soprattutto voglio vedere marco cioni all'opposto perché io so che lui è super fan di e quindi voglio vedere cosa cosa si inventa dall'altra parte a questo punto le squadre sono giovanni e riccardo contro marco cioni e mauro e possiamo a questo punto in chat e far partire il pronostico e quindi votate nel prono al pronostico nel pronostico il pronostico prima di sapere poi di sentirci di sentire gli avvocati che faranno le loro arricchie per vedere secondo voi a priori da dove pende la verità dove pende dove mentre scommettete i vostri punti canale nel pronostico vi ricordo che c'è una nuova funzione per il mio dio cioè voi chi è abbonato può usare il ditone di adriano santucci che sa è vero che mauro zingarelli questa per te è una cosa nuova io non lo sapevo se non vede mai un cazzo vuoi scrivere seguire esclamativo boom ma tu sei giovane dovresti saperci da fuori adriano la gif santucci con il suo ditone pazzesco ma sai qual è la cosa peggiore la cosa peggiore che fra un po oltre che al tuo ditone ci saranno anche gli altri ci sarà anche marco cioni che fa cose io che faccio cose arrivano gli altri adriano piano piano e c'è è apparso in live è apparso sì 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 è apparso sì è apparso ok ma allora il sondaggio si sta si sta svolgendo delle persone stanno votando per adesso c'è una non è una sostanziale parità più o meno è mostra prendendo un po in largo l'attacco però la situazione è abbastanza equilibrata nel frattempo marco io e qualcos'altro mentre si conclude il pronostico e allora io in realtà quello che forse voglio fare è ringraziare perché prima c'è una marea di gente che hanno potuto ringraziare solo come che poi non so da dove era arrivato che mi perdo però ci sta il mala tredicesimo mese calamito show per il nonno vero fonte 85 se risù balle all'uno per il sedicesimo mese e dice ciao a tutti quanta per rivedervi sto inserendo l'isca e underscore al livello 1 per il dodicesimo mese di fila vado a vedere tutti questi mesi è figo a aurora per il sedicesimo mese auto basic auto bear bear the nerd del genere benvenuto per la prima volta svevus si suba per la prima volta un sacco di gente sta subando campi underscore junior si suba per la prima volta quindi benvenuti ragazzi a tutte le persone che si stanno subando per la prima volta è finito pronostico finito ragazzi quanto come finito qualcuno l'ha visto vai giovanni finito come finito è finito come ci si aspettava contro l'opinione vince col 61 per cento al favore dell'opinione c'è un 39 per cento da me 60 40 non è così drammatica però attenzione riccardo mi raccomando è tutto c'era trentenne dice che ha giocato 5 milioni di punti sarebbero quelli kk addirittura partita la cappa secondo me e partita la cappa 5 milioni di pure secondo me manco se dormivi con una cappa in più eravamo bannati comunque quindi riccardo vai è il tuo momento per la tua prima a ringa e poi tutti gli altri vai riccardo va bene va bene parto con una piccola premessa io ovviamente parlo dei film di harry potter non faccio riferimento ai libri no perché parlo della cinema grafica ok questa opinione era nata perché l'avevo messa a confronto la saga di harry potter a quella del signore dei anelli e ho solo l'amore di voi la saga del signore dei anelli ma di tutti gli esperti di cinema anche ovviamente e mi sono reso conto che tanti appassionati di cinema comunque anche esperti a non piace la saga di harry potter e non ho mai ben capito il perché quindi ho provato sia riassumere tutti i pregi della saga di harry potter non riuscirò mai a dirgli tutti però cercherò di essere riassumiva uno dei più grandi punti di forza secondo me l'intera saga composto da tutti gli otto film sono i personaggi tutti i personaggi sono sempre molto ben caratterizzati e hanno anche gli attori perfetti il cast è stato scelto secondo me benissimo non c'è un attore fuori posto nel suo ruolo mi viene in mente addirittura qualche esempio anche di grandi prove attoriali mi viene in mente la elena bonham carter che interpreta bellatrix è perfetta nel suo ruolo ma che nell'ultimo film poi deve interpretare ermione che fa finta di essere lei quindi non è neanche una cosa facile per un attore riuscire a fare una cosa del genere bella che in come si chiama beh scusa non ti volevo interrompere mi è venuto in mente quella roba di scene brutte ma vai riccardo perdonami il mondo divano anche anche a live in mente anche di nel reclifo l'attore che interpreta harry potter nell'ultimo film deve deve interpretare tutte le varie persone che prendono la posizione poi succo per sembrare harry potter stesso e lui deve imitare tutti i modi di fare a me anche nel come cazzo hanno fatto di maurio pingarelli l'abbiamo visto come è stato difficile riuscire a fare una cosa del genere e come l'attore è stato bravo quindi un cast dalla madonna secondo me per tutti i film tutti i nuovi personaggi e la grande forza anche dei personaggi e rapporto che hanno fra di loro tralasciando il grandissimo rapporto di amicizio tra i tre protagonisti che cambia molto ci sono le primi litigate adolescenziali primi amori adolescenziali naturalmente nel film un po più avanti ma anche certi rapporti anche più profondi come quello fra harry potter e l'ubbina ad esempio nel terzo film di quaron fra l'altro è un rapporto splendido in cui si affronta anche la morte del padre si affrontano le paure di harry potter e tutti i personaggi una un'evoluzione completa dal primo all'ultimo film e come come i personaggi crescono e la loro narrazione si evolve anche lo stile dei film cambia infatti sappiamo che sono vari cambi di registi che da molte persone vista come una cosa negativa io la trovo una cosa molto positiva perché i primi due film per esempio sono stati diretti da non viene il nome quello che è quello che ha diretto anche già film magari più per bambini come non ho perso per l'aereo e infatti i primi due film come anche libri sono indirizzati a un target molto di ragazzini e il terzo film di quaron il quarto film di di newell e gli ultimi di ies e tutti i film hanno uno stile di regia sempre un po più serio sempre un po più buco come anche la storia sempre un po più cupa e come i personaggi anche crescono quindi questo è un punto assolutamente a favore di questa inoltre anche i primi film come quello di qua roma hanno anche una piccola impronta autoriale nella regia per quanto era possibile farlo in un franchise così grande però io nel finico non vedo anche molte personalità del regista e anche in quello di newell quel di james un po meno me ne rendo conto però sono anche un po impostati per essere dei blockbuster dato che era diventato ormai una cosa molto grande e questo solo per quanto riguarda i personaggi per cui anche il cattivo voldemont che io trovo uno dei cattivi più belli di qualsiasi altra storia fantasy perché la differenza per esempio mi viene in mente sauron del signore dei anelli e mi dispiace ma non viene mai spiegato una vera grande motivazione del perché lui è cattivo o fa quello che fa parte dominare il mondo e l'oscurità voldemort è molto certificato come personaggio viene raccontata ovviamente tutta la storia di tom riddle come è cresciuto e lui fa tutto quello che fa per odio raziale alla fine fine ovvero l'odio verso il mezzo sangue ovvero quelle persone nate da genitori babbani o metà e metà quindi è una grande similitudine ovviamente a quello che potrebbe essere un dittatore del nostro mondo come quello della seconda guerra mondiale senza per le nomi e quindi è un cattivo veramente impressionante secondo me anche tutta l'evoluzione che ha nella nella saga dato che appunto nel quarto nel quarto che risuscita fino arrivare al settimo dove c'è combattimento insomma quindi la trovo ludi ok allora concludo semplicemente comunque anche qua ovviamente attore pazzesco per voldemort però la concludo qua dopo allora parola all'accusa che non so chi vuole inizia e mauro allora io non voglio cercherò di evitare troppi paragoni con con il signore degli anelli perché sennò non finiamo a parlare solo di quello però l'hai tirato due in mezzo e quindi io penso tu abbia detto una grandissima cazzata prima nel dire che voldemort è un personaggio molto cattivo molto più più bello di quello che c'è il signore degli anelli perché poldemort è hitler con la bacchetta magica nel senso io adesso è senza il naso adesso ci si può nascondere quanto si vuole dietro questa cosa però è basic quanto più basic non si può essere c'è è proprio quello è trauma personale che si trasforma in odio razziale il problema è che il cattivo del signore degli anelli non è sauro non lo è mai stato sauro non è semplicemente un tramite per il vero cattivo dei signorelli che siamo noi che è la la il nostro egoismo durante tutto il film sauro non è mai un cattivo vero il problema non è mai sauro il problema è frodo e boromir sono ed è lo stesso esil duro all'inizio c'è la nostra parte egoista che spinge per avere per per avere un come dire un ritorno personale quando il bene più grande dovrebbe essere la nostra la nostra il nostro obiettivo è in generale poi ci sono tutta una serie di altri cattivi che insomma nel senso non stiamo parlando di saruman stiamo parlando dei dei natskull stiamo parlando del re di angmar stiamo parlando di yurukai cioè nel senso dove il sin dove harry potter costruisce un pelato senza naso e dice adela man carter fai quello che fatto nei film di tim barton ma matta quello che succede invece nel signore degli anelli che vengono costruite tutta una serie di personaggi che che portano in vita c'è nessuno ricorda sauron perché sauro non esiste non è un cattivo vero i cattivi sono gli altri quindi partiamo da questo presupposto quindi questa è la questione sul sul cattivo dopodiché allora se noi vogliamo metterci a fare un come dire un microcosmo nel quale harry potter la miglior saga cinematografica con più di due film fantasy che poi non è proprio non proprio mezzo fantasy eccetera eccetera sì sicuramente è uno dei più riusciti ma anche perché l'unico nel senso di che cosa stiamo parlando quel che si è nel senso il problema è che tutte le cose che tu hai detto a supporto non sono proprio proprio verissime nel senso i personaggi sono belli pieni di cazzate harry e ginny si amano perché sta scritto da qualche parte la loro relazione non esiste da nessuna parte proprio è così ficcata nell'aria a caso lupin entra fa due cose poi scompare l'apporto tra harry e sd liguri e questo parlando di film ovviamente ragazzi sto parlando di film non dei libri perché è questo porta secondo me il grave problema di harry potter che non lo rende un capolavoro del fantasy il film e che si poggia troppo su quello che sono i libri c'è harry potter la saga filmica da per scontato che tu abbia letto i libri che conosca tutta una serie di cose e che quindi tu non debba essere informato su tutta un'altra serie di questioni perché tanto quelle piccole se già le sai ragazzi io vi voglio ricordare e questa è una cosa che dovrebbe già squalificare harry potter che all'inizio del settimo e ritrova il frammento di un oggetto che non ha mai avuto perché semplicemente non gliela hanno dato perché non lo ritenevano importante da adattare dal libro a film e nel settimo poi improvvisamente era importantissima e quindi loro hanno fatto finta che nel film precedente gliel'avessero dato cerri all'inizio davvero questa cosa all'inizio del settimo film e ritrova un frammento di uno specchio che gli dà sirius nel sesto libro ma che è stato quindi semplicemente che si ritrova uno specchio magico nel baule vabbè però l'avevano girato quindi dai e vanno l'hanno montato però l'hanno girato io non penso l'avessero girato però no 2 adesso l'hanno tagliato dal no l'hanno tagliato non l'hanno adattata sceneggiatura e questo vale anche per bill che viene tagliato completamente perché non si pensava fosse importante diventa importantissimo negli ultimi libri cioè ci sono tutta una serie di cose i dissennatori che funzionano un po a cazzo di cane poi ci arriviamo nella seconda nella seconda parte però in generale la grossa mancanza di harry potter come film e che non sta in piedi da solo non ce lo fa non riesce tutta c'ha tutta una serie di regole fumose che lasciate le loro stesse sono un timore che finisco finisco l'ultima cosa questa questione di cambiare regista è una cosa sicuramente buona in principio ma sbagliatissima in pratica perché c'è una mazzata in faccia di cambio di stile tra il secondo e il terzo tra il terzo e il quarto e tra il quarto il quinto che prova una roba ragazzi come dire dai capelli di ronnelli nel quarto film ma di che cazzo stiamo parlando la fotografia parla cambia così location cambiano io capisco il cambio e la crescita però un discorso è quello un discorso è fare finta che gli altri cioè così si butta all'aria tutta quanto la coerenza visiva allora giovanni vai che poi scusate che riscola un bus ma pure il regista di mamma ho perso detto riccardo e anche lo sceneggiato gremlins allora è bellissimo come mauro fa un discorso tremendamente generale che può essere appioppato a qualsiasi saga qualsiasi altro film nella storia e poi invece giustamente lo usa il signore degli anelli intanto volevo far notare al nostro giudice suprema adriano santucci che nell'opinione harry potter è meglio il signore degli anelli ha vinto già harry potter storicamente in questo programma quindi già abbiamo deciso che è meglio rispetto al signore di questo progresso e la legge di questo programma ammette la sentenza è una contraddizione siamo sul sullo stile americano è una contraddizione una contraddizione comunque a parte questo questa piccola cosa ma per la per la disco per il discorso che faceva prima mauro dei cattivi è un po ripeto un po grazie al cazzo perché nella maggior parte delle saghe tu il cattivo quello che viene definito nel film per darti un cattivo il cattivo vero e proprio non è quasi mai il vero cattivo il veri cattivi in tutti i film in tutte le saghe sono dei concetti molte volte gli altri personaggi perché per esempio non è che in harry potter c'è solo voldemort c'è la umbridge per ad esempio come altro cattivo ci sono tanti altri personaggi cattivi che harry nella sua storia nella sua vita deve sconfiggere per poi arrivare a quello che è il cattivo supremo esattamente come succede anche in tantissime altre saghe quindi non è che nel signore degli anelli c'è sta genialata e nary potter questa cosa non c'è c'è solo voldemort c'è pure lì declinato ovviamente in maniera diversa una delle cose che fa harry potter la migliore saga cinematografica fantasy è che quello che l'abbiamo detto più volte ogni volta che parliamo di harry potter è che la particolarità del film di harry potter è la crescita harry potter parla della crescita e la differenza nella mano registica e quindi la differenza nei film nei film è importantissimo anche per quello perché un individuo crescendo vede le cose sempre in maniera diversa pensa sempre in maniera diversa cambia con la crescita di conseguenza a livello visivo un film a cui mi sta dicendo che cambi in determinati modi per esempio il terzo film che quello il mio è il più amato in assoluto della saga e per quello che ne so visto che ne abbiamo parlato più volte di harry potter anche di molte persone alla nostra chat quello di quaron è quello più scuro di tutti perché il momento più scuro della crescita di una persona e quando proprio passi dall'età adolescenziale dal bambino e diventi cioè da dall'essere un bambino e diventi un ragazzo ed è un momento tremendamente scuro nella vita di tutti e per questo è stato scelto quaron non è che a caso hanno detto aspetta moghi se via muoviamo segua ron che è bello bravo e nano e ci piace no l'hanno scelto apposta quindi il suo ma se nel senso che basta il suo modo di dirigere ed è uno di quelli dove si nota di più la mano di un regista perché gli è stato dato giustamente molto la possibilità di fare quello che voleva è stato proprio particolarmente richiesto questa cosa perché serviva in quel momento della storia dal punto di vista cinematografico serviva un cambio di registro il quarto film i famosi capelli di che mauro diceva di ron eccetera ragazzi a quell'età siamo tutti in che vogliamo i capelli lunghi vi faccio vedere una foto di matteo bruno quando c'aveva quell'età era la cosa più inguardabile della storia colpo basso ma perché mi piace un paio di capelli decenti nasa intera vita a parte quello bravo è normale perché è un periodo dove tu stai formando un'altra persona e siamo tutti orribili in quel periodo brufoli giganti concludo capelli a cazzo di cane siamo tutti brutti tutti strani tutti che stiamo cercando di capire cosa vogliamo diventare e anche questo si vede nei film di harry potter e il bello la cosa più bella della saga cinematografica fantasy di harry potter non è che c'è il cattivo senza naso o c'è chissà che cazzo c'è quell'oggetto che deve essere recuperato preso fatto e detto è che ti racconta questo la crescita di una persona ed è bellissimo mai avanti grazie ma grazie giovanni prego allora io proverò a fare qualcosa di complesso oggi proverò non a dire perché harry potter non è bello non proverò a dire perché il signor gli anelli è meglio di harry potter voglio parlare di altre saghe fantasy e in particolare io voglio cominciare con dragon 3 perché io credo che uno dei più grossi problemi di harry potter che 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 ne dica giovanni santonocito socio da che che il socio dal dissociarsi di adriano è fondamentale in questo caso infatti io provi di socio comunque che che ne dica giovanni santonocito io credo che il problema avvero uno dei grossi problemi di harry potter sia proprio il fatto che purtroppo a differenza del corrispettivo letterario i film non sono mai riusciti veramente a distaccarsi no no a differenza poi potevano farlo non sono mai riusciti a distaccarsi completamente dall'atmosfera infantile bambinesca che devono portarsi dietro voi mi direte è ma gli ultimi due film come in un sacco di persone è ma un certo punto da quando silente muore c'è una svolta tutto quanto matura non è così semplicemente i temi che harry potter ponta porta avanti non cambiano restano sempre quelli poi magari i toni della regia sono più scuri i toni della fotografia della colonna sonora eccetera sono più dark sia si spingono un po più in là rispetto a quello poter essere i primi due film ma a livello di tematiche harry potter ragazzi è la cosa più basica e si banale non lo so se dire ma è semplice beh è molto molto semplice ed è ovviamente quando una cosa è semplice e segue uno schema narrativo che è un topos come direbbe mauro zingarelli sfruttato da sempre un topos narrativo sfruttato da sempre la storia cioè eletto che deve sconfiggere il male dopo parleremo di matrix e credo che sia la stessa identica non si porta non si porta non va mai oltre questo invece ci sono film ad animazione e fantasy che magari nessuno si incula quando parla di viola e saga cinematografica ma ragazzi dragon trainer ma a un bambino ma che messaggio pazzesco gli passa dragon trainer parla di una tribù di vichinghi che dovrebbero uccidere i draghi ti racconta la storia di come questo ragazzo andando contro tutto quello che è stato insegnato sconvolge completamente il regolo della società fino a che fa diventare i draghi e i vichinghi i migliori amici e anche dei compagni e lo fa con una riesce a stare su più livelli è questo quello che manca a harry potter su più livelli dragon trainer il primo film poi la cosa bella è che andando avanti riesce a sviluppare questo tema senza ripetersi ma aggiungendo ulteriori piani di lettura per cui c'è disarmante secondo me come film come dragon trainer riescono a passare un messaggio veramente profondo e veramente fondamentale a tutti quelli che lo guardano sia i bambini sia alle persone più mature mentre harry potter un bambino che se lo guarda e magari c'ha c'è il buono il male che deve essere sconfitto dal bene punto questo gli arriva perché ha il dragon trainer che ci arriva scusa se io dragon trainer all'inizio loro gli dicono per super diventare un bichingo dovrai uccidere un drago lui becca questo drago invece di ucciderlo ci si allea insieme gli costruisce una cazzo di protesi perché lui non può volare alla fine lui perde una gamba e quindi gli mettono una protesi anche a lui cosa che lo unisce ancora di più al suo drago e questo fa capire ai bambini che se per anni e anni e anni ti hanno detto che tu devi odiare quella particolare gruppo di persone solo perché te l'hanno detto non è necessario necessariamente vero necessario che sia così anzi puoi essere tu quello che cambia le cose ed è pazzesco comunque allora finisce il primo giro io voglio comunque dire che sono d'accordo con lorenzo ma in chat vogliamo ringraziare delle delle persone nel frattempo mi vengono iniziare marco il secondo giro siamo aschi testardo che si suba per il quarto mese filippo underscore 27 19 che si riscrive cos'è della santucci accontetto per il trecesimo mese judge auro io notavo solo il cambiamento jo joe i melodi ma io sempre detto mi dicono anche che è sbagliato perché dovrebbe dire sabba neri l'ognomo si suba per il a livello 1 che non è mese di fila ciao nemmi ciò comatti per il tredicesimo mese 94 dan per i 9 ragazzi un sacco di gente sono molto contento di 6 su vi stiate iscrivendo e subando perché domenica scoprirete che se siete abbonati a questo canale twitch avrete un ruolo fondamentale nella questione corto e live e con fondamentale ragazzi non intendo parteciperete no no proprio che sarete la scintilla essenziale che darà via la scintilla essenziale così che marco riuscito a sposarsi riccardo hai raccolto tutto quello che è stato detto e quindi adesso il tuo momento per rispondere portare altre altra acqua al tuo mulino altre tesi vabbè capito dai ciao ed ecco insieme di orqui adriano invece non si è sposato non ho mi è mancata la scintilla una figlia vabbè capito dai la scintilla c'è stata mazza provo intanto rispondere un po quello che hanno detto marco e mauro che non ti curare di loro poco non ha fatto dire c'è pensa una visione di opinioni pericolose in quel certo punto l'avversario fa sai cosa sai ragione sono ciao non è mai successo ragazzi io vi ricordo sempre l'opinione su seven dove alla fine la ragazza ha ammesso che stava cercando una cosa che non c'era vai vai riccardo ok ma intanto parto da questa questione di dragon tenet perché io spero che tu ti stia riferendo al primo film di dragon tenet perché gli altri tutti il terzo ragazzi è bellissimo e com'è il terzo il terzo non merita invece riccardo l'ha visto solo me li sono riguardati recentemente però solo i primi due il terzo non me lo ricordo mi ricordo del primo l'ho guardato proprio l'altro ieri però tu parlavi per esempio di un solo messaggio del messaggio dei draghi che sono una cosa che sono sempre stati abituati a odiare e respingere che poi invece si uniscono e questo è un grandissimo messaggio come hai detto tu però anche Harry Potter ne porta tanti messaggi non solo uno ne porta tanti anche diversi appunto quello che ho detto prima è quello del razzismo quindi quello del mezzo sangue poi c'è il tema della famiglia il tema della famiglia di Harry Potter morta che lui cerca non in cinque minuti ma in tanti film di cercare di superare questo trama a partire dallo specchio del primo film a partire a poi per poi proseguire con il rapporto con lupi nel terzo film che non ha fatto superficiale come diceva Mauro ma anzi è molto importante loro hanno tutti i momenti da soli in cui Harry Potter non può andare a fare la visita alla città fuori non so dove in cui tanti novi che viene a fare tra l'altro non è neanche vero quello che dice Mauro sui libri perché io ho visto la saga di Harry Potter senza aver mai letto i libri per la prima volta ed ero anche piccolo e ho sempre capito tutto non sono sei un genio secondo me io ho letto poi i primi quattro libri per ora sono un po pigro pian piano li recupero tutti e mi rendo conto di tutte le cose tagliate lo so lo so un po stanno stanno sta parlando di qui per esempio il libro di manelli forse fatemi capire il punto qual è nel senso perché non si possono no 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 voglio dire non si può sono non leggere i libri di Harry Potter a quale allora posso dire la mia poi ring avere avanti Riccardo se nelle se cominci poi finisci c'è se fai a 4 da quanto tempo sei a 4 lo accetto accettarlo ma è tipo c'è se domani incominci il cinque adesso capisco perché crede che la saga intanto voglio far notare una cosa stiamo sottolineando troppo questa cosa che riccardo non ha letto i libri stiamo dicendo qua stiamo parlando dei film mannaggia la pittana no ce l'ho con la chata anche stiamo parlando dei film ma ragazzi non dei libri un'opinione valida lo stesso dei film ma città al cuore ma non mi piace entriamo nel vivo ma appunto avendo letto i primi 4 per esempio mi rendo conto che nel quarto è stata tutta tagliata la storia di barthi carl giugna però il film si regge comunque lo stesso ti danno quelle informazioni base per capire quella quel meccanismo lì anche perché quel quel c'è quel libro è uno dei più lunghi se non sbaglio il quarto e poi il libro come il fumetto un film eccetera sono tutti i mezzi di comunicazioni diversi quindi ovviamente i libri vanno adattati al mezzo del cinema ed è ovvio che vengono tagliate certe cose perché sennò viene un film doppio lungo quello di cubri che invece sono finita due ore e mezza e sono anche già abbastanza lunghi per insomma quindi come non c'entra sperimenti niente altri punti che io mi ero segnato ancora da prima è la realizzazione dei film perché spesso per esempio che viene sempre esaltata la saga del signore di anelli è la realizzazione tecnica o l'impegno che c'è stato dietro gli anni di produzione che sono stati dietro e io ho seguito sia come cazzo hanno fatto che anche vari documentari solo l'importanza nella storia del cinema del signore di anelli però non ci stiamo rendendo conto che anche il riporto era una realizzazione incredibile non solo di tre film ma di otto film tutti i costumi tutte le scenografie anche solo diagonale la prima volta che è stata creata per il primo film con più di 500 oggetti fatti da 40 persone in sette mesi a mano una ad uno tutte le bacchette tutti gli oggetti di scena tutti i costumi dei maghi che fanno subito capire la differenza tra il mondo babbano e quello magico e che fa innamorare tra l'altro un bambino del mondo magico fa proprio vedere la differenza tra il mondo grigio e noioso dei giorni nostri in cui ci sono i zii di Harry Potter che che conducono una vita noiosa un lavoro noioso non hanno stimoli mentre mondo magico e pieno di di colore di stimoli di attività e costumi le creature anche che ci sono in tutti gli otto i film sono stati creati animatronics sono stati creati anche solo un sacco i modelli con una cura maniacale solo per reference per gli attori o comunque per chi doveva poi occuparsi gli effetti speciali exili e questa rende la saga fatta non bene di più e quindi sia dal punto di vista del contenuto secondo me nel genere fatto di una delle sagge più importanti finito finito ok vai mauro allora vabbè io me ne sono andato semplicemente perché dal lato sono da cioè sono contento che non abbia letto i libri perché questo vuol dire che ti dà un contesto cioè che ti dà una neutralità maggiore nell'analizzare i film e il problema di questa opinione secondo me è una mancanza di di come dire di contendenti al titolo nel senso purtroppo il problema che di grande saghe fantasy cinematografiche se leviamo gli urban fantasy se leviamo i dei come cazzo si chiamano le racconti per ragazzi distopici eccetera 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 purtroppo tipo mezz runner tipo hunger games finiamo con due film due saghe essenzialmente soripote e signore gli anelli come diciamo nell'opinione ricorda star wars è una spesa opera io non voglio parlarne guardate perché sennò scusa volevo ringraziare siamo siete voi che gli state dando tutti questi mille sottogeneri perché sennò come infatti è un secchio sul problema è quello che sto dicendo cioè se prendi star wars e lo butti nel fantasy se prendi al game se lo butti nel fantasy se prendi tutta una serie di altra roba perché chiaramente tutto ciò che sa fai e fantasy c'è la fantascienza un sottogeneri del fantasy ma questo è un altro discorso il punto è la fantascienza sottogeneri del fantasy ma questa è un'altra scusata poi ne parla sul vostro server discord vai comunque quello che stavo cercando di dire è che io mi concentrerei su un altro rivale recente del del fantasy che è game of thrones ora parte abbiamo definito abbiamo capito che il finale di game of thrones perfetto su questo su questi canali però si ricordano giusto sì 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 però pure lì non però non fa testo però lasciamo perdere il finale prendiamoci le prime cinque stagioni che ci bastano quella è una saga e il punto in cui su cui mi intento concentrarmi è il concetto di saga c'è il concetto di qualcosa che procede in maniera relativamente coesa il problema di harry potter rimane che gli manca tutto quello che rende grande il fantasy la loro la costruzione di un mondo dice ma come ma non è vero ma il mondo di harry potter è costruito è bellissimo è fichissimo no ragazzi il mondo di harry potter nei film è appena accennato i test sono buttati così uno muore li vede poi non li vede scaccavalca vai quelluna quella strana vai lo stesso vale per tutto quanto nella scena nella parte finale nel terzo atto dell'ordine della fenice loro vanno al ministero vedono due stanze se ne vanno a fanculo c'è il problema di harry potter come giustamente tu dici mi dispiace se ritorno a parlare di libri ma io non sono assolutamente d'accordo col fatto che libri e film siano due mezzi completamente diversi perché tu stai adattando quella storia nel senso è come dire la sceneggiatura il film sono due cose diverse più o meno se devi adattarlo quindi salati bene hai fatto una cosa bene tra l'attima hai fatto loro del merda e il problema secondo me è proprio questo è che su harry potter nell'adattamento quello che succede è che invece di scegliere cosa tagliare e cosa tenere in base a qual è la parte più emozionante si è scelto di tenere tutti gli aspetti più interessanti ma invece di approfondirli uno per uno si è semplicemente di prenderli e poggiarli prenderli e poggiarli prenderli e poggiarli ci sono una serie di personaggi creature creature è l'elfo domestico che arriva e incazzato io per culo e poi alla fine semplicemente da una mano una macchietta non serve a niente un personaggio importantissimo per me però è qui arrivo alla parte che secondo me la più importante il problema è che mancano tutte quante quelle centrodici l'ho capito il film certo che hai capito e marco prima diceva a delle tematiche relativamente basiche questo perché sono state esatto questo perché dai 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 film è stata eliminata la cosa che rende la saga di harry potter una cosa molto molto importante ed è il rapporto con neville il concetto che ne sono la stessa cosa è una cosa che rende harry potter un grandissimo lavoro perché il concetto è non sei un eletto non sei la profezia tu sei quello che scegli di essere voldemort sceglie che il proprio avversario scegliendo la persona che lui ritiene più pericolosa ma tutti possono essere infatti poi nevi lo diventa nel film nevi lo diventa perché semplicemente era al cicciottello un po sfigato e invece grazie al coraggio diventa bravo invece il punto del il punto vero è neville ha scelto di diventarlo ha deciso che sarebbe potuto diventarlo ultima cosa e poi chiudo che un'altra cosa che rende secondo me harry potter assolutamente non una un'ottima saga dal punto di vista cinematografico la maniera in cui sono state trattate le magie io odio odio le magie di harry potter mi fanno incazzare come una faina nel riporre le mie sono tre sì assolutamente in harry potter ci sono incantesimi tre incantesimi fatti a cazzo di cane che a seconda del contesto funzionano in maniera completamente diversa a certo punto in poi è questa questione da chi ha letto i libri però da un certo punto in poi loro iniziano stare incantesimi non verbali senza spiegare il fatto che a un certo punto qualcuno gliela insegnati una cosa molto difficile una cosa è un grande punto di svolta del libro ma lasciamo perdere il punto è che loro a un certo punto iniziano stare gli incantesimi non verbali non dicono più gli incantismi così non si devono più preoccupare e la cosa più ridicola di tutta questa saga ea me fa incazzare come una faena e il combattimento tra voldemort e ma e silenti alla fine del quinto film tu vedi quel combattimento e fai ma che è sto circo che stanno facendo il drago rosso di quelli che si sparano i fischia botti sotto come si chiamavano le 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 cose di beyblade molto belli ero bellissima beyblade ragazzi nel senso non capisci un cazzo chi sta vincendo che stanno facendo perché quello trasforma l'acqua in vetro ma chi chi vince alla fine vince uno quello che deve vincere manca questo manca la costruzione di un mondo coerente che ti fa dire questo è più forte di questo questo viene detto ed è una cosa che non lo fa funzionare giovanni io noto che stasera mauro è parecchio sottotono non riesce a parlare del film e continua parlando il volume e continua a parlare del libro non riuscendo a parlare di film perché se parliamo della saga cinematografica di harry potter purtroppo sappiamo io ne sottolineo le mancanze rispetto al libro perfetto però siccome più volte è stato detto e più volte siamo abbastanza d'accordo del fatto che è una cosa sono i fottuti firma una cosa è una cosa tua diciamo diciamo che qua sappiamo più che altro dobbiamo decidere se è la migliore saga cinematografica grazie adriano santucci giudice supremo quindi continuare a parlare dei libri e delle mancanze che i film hanno dei libri mi sembra abbastanza stupido è semplicemente un mezzuccio per cercare di dire qualcosa quando non si altro da dire poi su tutto questo voglio sottolineare il fatto che comunque la trasposizione cinematografica dai libri ai film è stata seguita da jk rowling in persona che se non sbaglio è l'autrice dei dei libri quindi se c'è una persona se c'è una per purtroppo se c'è una persona che poteva trasporre al meglio quello che aveva scritto da una parte e che poteva che cazzo sta dicendo una firma ragazza firmati ma c'era lei guarda di contenuti specie degli istituti c'è sempre lei lì che decide c'è qua ronna che ci ha fatto giornate e giornate di vanno faccio fintanto l'usione con lei e ieri e gli aids pure che quando chiede cerchiamo chiedevano alle gambe sta verbale che queste cose non sono corrette ma vaffa dai adriano non è vero che non è vero non è vero non è vero e avviene alzini sono vere batti a vedere la rolling c'era vedere i contenuti speciali la rolling e su tutti i contenuti speciali e tutti in continuazione non fanno altro che dire che si basavano su quello che diceva la rolling c'era ragazzi voglio immaginare speciali guarda amo fatto e fin di questo libro ma non c'è nero mauro cazzo non è il tuo turno hai detto ci hai raccontato grazie mille va bene quindi a parte fatto questo parlando di quello che è quello che dobbiamo dire cioè la saga cinematografica mauro ha tirato fuori è stato molto bello tirare fuori game of thrones che oltre non essere una saga cinematografica ma una serie televisiva ma facciamo finta che vabbè come dice marco cioni però io volevo anche ricordare che la serie televisiva il game of thrones a ben 10 20 30 40 50 60 più 7 più 6 quindi c'ha quasi episodio da più o meno un'ora ciascuno 15 a quasi 80 ore di gira di di racconto diciamo rispetto agli otto film di harry potter che pure che durano due ore a testa sono sempre 16 ore io direi che è la quantità di informazioni che puoi inserire in 16 ore è leggermente minore rispetto a quella che può inserire e nel mondo che puoi creare in 80 ore di game of thrones quindi direi che il paragone può più o meno non esistere quindi andiamo avanti va bene non l'ho deciso io l'ha deciso il tempo in 80 ore alla matematica ci sono la matematica e non tante ore alla possibilità mangiare lunghezza quindi la fantasy più corta no 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 semplicemente rispondendo alla cretinata che hai detto tu parlando della saga cinematografica di harry potter dal punto di vista semplicemente cinematografico non voglio parlare della colonna sonora di williams che se la ricordano pure i muri non voglio parlare che ne so anzi no vogliamo parlare come diceva riccardo della realizzazione tecnica della costruzione di quello che sono stati i set che adesso la maggior parte o pezzi di set perché giustamente hanno potuto conservare dei pezzi fanno parte di una sorta di museo tour dove la gente a londra continua a riempire della della ricerca che è stata fatta per lavorare a tutta questa roba per costruire il film purtroppo c'è un problema quello che questa saga è perfetta da diversi punti di vista può a diversi temi è stratificata può essere accolta da un in maniera molto semplice da un pubblico molto giovane che vede solo il super cattivo il ragazzo buono i suoi amichetti che devono sconfiggere il super cattivo e può essere accolta anche da persone un po più adulte che invece riescono dato l'età eccetera a vedere dell'altro ed è questo che è una buona storia deve fare niente più che questo per quanto riguarda la trasposizione perché si tratta di trasposizione non può essere una uno la trasposizione è ottima quello che è stato eliminato permette tranquillamente a una persona e ce l'abbiamo qua sotto che i libri non li ha letti di cogliere comunque quello che è la bellezza della storia l'importanza dei personaggi come riccardo stesso ha definito riccardo ha parlato dei personaggi per quello che sono nel loro strato base ovviamente che è quello che puoi avere vedendo i film se poi ti leggi libri che è un altro mezzo di narrazione puoi cogliere tutta un'altra serie di cose che non fanno altro che arricchire quello che è la storia base di harry potter io gli auguro a riccardo come auguro a chiunque abbia visto la saga di harry potter di vedere i film come apro una piccola parentesi auguro auguro anche a chiunque ami da impazzire il signore degli anelli di riuscire a leggere anche il libro perché la maggior parte delle persone che amano il signore degli anelli e per loro stessa missione molte volte che gli si che gli si chiede il libro non l'hanno mai letto ma amano la saga gli piace la storia eppure sappiamo benissimo che ovviamente per via della trasposizione anche dal signore degli anelli è stato tagliato sto mondo e quest'altro bello esatto il motivo per cui non si è sentito la necessità di leggere il libro quella è una tua opinione e poi viene un'opinione molto molto diffusa che i libri di harry potter sono adattati di merda che i libri signori anelli sono dati perfettamente questa opinione derivata dal fatto che le persone che hanno visto tutta la saga di harry potter hanno letto tu quasi tutti i libri le persone che hanno visto la saga il signore degli anelli quasi non hanno sentito la necessità di leggere il libro non hanno letto quel cazzo di mattone gigante quindi non eseggiando il libro una merda lo so che avendo lo so non l'ho mai letto magari è meno accessibile non posso dire è sicuramente quindi per tutto quello che abbiamo detto finora è per il fatto che soprattutto per per me una forza il fatto che riccardo non abbia mai letto il libro ma che ami comunque la saga cinematografica quello che fa harry potter la miglior saga cinematografica è proprio il fatto che può essere capita e amata anche senza aver letto il libro grazie marco prima di sei l'ultimo prima di concludere lanciare il sondaggio durante le arringhe finali ok allora intanto io voglio dire voglio solo fare un'eccezione a quello detto prima cioè non smontare la saga di harry potter io purtroppo come giovanni sa sono un fautore della questione i film sono film i libri sono libri teniamoli separati poi ovviamente concordo anche con mauro che ci sono volte in cui l'adattamento del libro è fatto bene e quindi esce fuori un bel film a voto in quel tempo di per fatto di merda e quindi poi ti fa rosicare perché hai letto il libro dice ma questa è una ficata il film è una merda perché evidentemente il gusto personale marco detto questo detto questo c'è secondo me un altro grosso perché io dico che la cosa che secondo me la vera pecca di harry potter sono le tematiche sono state appiattire semplicistiche non c'è rispetto ai libri ma che vuol dire che noi perché dico rispetto ai libri adriano perché vuol dire che noi sappiamo che c'era la possibilità di dare una profondità che non è stata data questo e questo voglio dire ad esempio c'è una scena che è stata girata ed è stata tagliata sul finale di harry potter sugli ultimi film che è penso forse una delle scene che se fosse sta inserire nel montaggio avrebbe rappresentato uno dei messaggi e una delle scene più toccanti di tutto harry potter cioè la scena in cui harry se ne va e c'è il cugino d'adley che per tutti i film lo ha devastato e lo ha considerato cielo considerava un niente lo considerava un reglietto da adria sempre sono un personaggio super negativo che in quella scena quando vede il cugino e se ne sta per andare e sa che il cugino stanno andando incontro a combattere una battaglia che potrebbe ucciderlo c'è un momento pazzesco in cui loro si avvicinano e c'è dell'affetto reale in quella scena tra l'altro l'attore che interpreta dalle i ragazzi è un attore della madonna perché adesso è riuscito fuori per esempio ha fatto su netflix la ballata di basket è l'altro è anche cosa come si chiama la regina degli scacchi si è quello degli scatti lui schieno che esatto esatto il pischiello che praticamente c'è un attore della madonna e che però ovviamente secondo me ha un po la carriera risentito che quando ha fatto dadley e adesso di recente è un po riuscito fuori quella roba lì era ed è stata girata la scena e su youtube la trovate credo ed è una roba che è di una profondità e in due minuti tre minuti di riprese ti riesce a trasmettere qualcosa che non si vede mai nel riposo c'è qualcosa un vero sentimento perché secondo me il vero problema è che nel riposo essendo una saga molto orientata a piacere anche ai bambini in maniera semplice non come lo fa la pizza ad esempio le emozioni sono tutte un po posticce cioè quando come diceva pure mauro gini e eri ma dove è l'amore dove tu dove c'è l'amore lì non c'è mai c'è solo del leggero imbarazzo e poi ci sono delle parole in cui eri dice di amare gini e viceversa ma poi non le vivi queste cose in harry potter scusa però marco quando si faccia non è il quinto pare che che se sono appena visti e la prima che sono fratelli però un po schifo fino adesso ti chiedo per concludere poi nella riga finale mi avete sempre parlato del film rispetto ai libri rispetto ad altri film parlatemi prima di ho parlato comunque della profondità di una saga tipo dragon trainer che in questo caso è ok io ti sto dicendo in harry potter c'era la possibilità di farlo perché questa roba l'hanno girata è un motivo ci sarà se non ce l'hanno messa perché sapevano che forse e andavano a tagliare dove c'era la profondità perché gli serviva altro ok 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 questo intendo parliamo di un'altra saga che secondo me invece non è profonda per le tematiche ma se che secondo me spacca il culo ad harry potter per quanto riguarda l'universo quello diceva mauro prima secondo me è molto vero cioè harry potter finché si parla di hogwarts ti riesce a trasmettere in modo in maniera forte l'universo che c'è intorno ma è molto localizzato a quella roba lì cioè purtroppo se voi ci fate caso tutti gli altri prodotti ambientati nel wizarding world di della rolling non hanno funzionato come harry potter perché harry potter ti funziona perché c'è una storia molto semplice che tutti quanti già riconosciamo e sappiamo come funziona in un mondo che è quello di hogwarts super funzionale ma nel momento in cui l'hanno spostato in animali fantastici da qualche altra parte allo cinematografico non ha più funzionato nel momento in cui hanno fatto un'opera teatrale da cui poi hanno tratto un libro non ha più funzionato parliamo di un'altra ci aggiungiamo anche l'opera teatrale no nel senso che ti dico che quel mondo le regole di quel mondo come diceva mauro non sono funzionali come ad esempio quelle di pirati dei caraibi ragazzi parliamo i primi tre film dei pirati dei caraibi poi a certo punto hanno deciso di fare fast and furious i primi tre film dei pirati dei caraibi sono incredibili dal punto di vista dell'universo che ti trasmettono riescono a parte che hanno creato un personaggio iconico in una scena che è jack sparrow e va bene ma poi c'è tutta quell'aura di mistero tutta quell'aura di magia che ti trasmettono proprio ogni personaggio per come è vestito per come è trattato per come si comporta riesce a trasmetterti in un secondo dove sta che cos'è come funziona quell'universo e soprattutto la cosa figa è che non si prende mai in serio secondo me l'altro problema di harry potter che si prende un botto sul serio e qui questo è vero però tu dici lasciamo perdere perché hanno fatto fast and furious ma qua parliamo di saghe intere comunque comunque avete ancora le ringhe finale avete ancora le ringhe finali lanciamo quindi il sondaggio quindi voi che ci state seguendo a questo punto o dal computer o col cellulare fate in modo di poter votare in chat apparirà adesso il sondaggio perché durante la ringhe finali che faranno accusa e difesa voi dovrete votare per decicciano per decidere per farmi capire come sono andati secondo voi è partito il sondaggio quindi mai riccardo con la tua ringa finale va bene proprio velocissimo a rispondere a qualcosa che hanno detto loro sì per esempio anche tutta tutta la ringa di mauro di cinque minuti l'ha impiegata per dire le mancate dei libri nella saga cinematografica dicendo le mancanze della faccia e matografica usando esempio lì perché è diverso perché una cosa diversa secondo me ma ripeto io che ho guardato solo il film per ora non c'è nulla che manca ovviamente in confronto ai libri manca ma se prendi solo la saga cinematografica non manca anche le scene ok che anche le scene tagliate di di marco per esempio che ha detto dalla di quella scena di dadle l'ho vista su youtube con ancora gli screen è molto bella ma il stesso messaggio passa anche alla fine del film quando c'è quella di mercy di mal poi insomma quando harry potter salva malfoy è un po lo stesso concetto 22 personaggi che sono sempre stati contro che alla fine insomma risolvono quindi ma è stato tagliato quello però c'è comunque quello di drago ma poi quindi comunque quel messaggio passa comunque per dire l'ultima cosa finale insomma per stare in da qui harry potter è una saga incredibile sia per tutti i motivi che abbiamo detto prima che ha detto anche giovanni io non ho nominato la colonna sonora di williams che è indimenticabile ma soprattutto la cosa bella di riportare l'atmosfera che crea in tutta la saga l'atmosfera del mondo magico che non è vera che è rilegata solo al all'ambiente di Hogwarts pian piano nei vari film della saga di riportare il mondo magico si sia viene ampliato per esempio c'è il set della del ministero della magia che uno dei più grandi set realizzati tra la saga che è stupendo è bellissima atmosfera appunto del mondo magico ho accenato prima brevemente che viene mostrato specialmente i primi film anche dopo la differenza tra il mondo babbano e quello magico e sia per un bambino è stupendo vedere come il mondo magico è pieno appunto di di magie di colore di mille giochi di mille cose che si possono fare sia per un adulto o comunque uno più grande riesce a vedere i vari livelli che hanno i film perché non è perché è vero quello che diceva marco nella primissima ringa che è vero che tratta dei temi anche abbastanza banali o semplici però questo non dire niente abbiamo visto per esempio in graviti c'è una storia stupidissima però è un'esperienza quel film ma qui ma è qui addirittura in questa saga ci sono più livelli di lettura perché appunto io tutta la saga completa fino alla fine l'ho vista che era abbastanza piccolo e mi è piaciuta tutta perché mi piaceva l'avventura mi piaceva la magia mi piacevano le cose che facevano ridere mi piaceva l'azione invece adesso che l'azione per esempio mi annoia un pochettino in generale nei film riesco a vedere vari messaggi molto più importanti nella sagge del reporter come i rapporti tra i personaggi che crescono dall'inizio alla fine tra gli amici nella famiglia e tutti i rapporti tra i personaggi sono incredibili l'accusa della ringa finale la posso fare io marco scusami mauro è tutto dai due mani io adesso però adesso io adesso spai calmo è una no no perché è tutta quanta l'opinione che leggo nei commenti e giovanni è sempre la zona dei libri lei fa parlare me devi far parlare a me quando tocca a me mi parli sopra non state a parlare di colato sopra va bene basta basta mai parlato di altri film come parlare me prego è la questione è che dai giovanni lega ragazzi e che io adesso ve lo dico ma voi l'avete visto il signore gli anelli o no perché ma fino adesso abbiamo fatto finta di niente abbiamo detto no perché effettivamente dragon trainer effettivamente forse shrek è il boy tecnicamente una saga fantasy ma anche effettivamente ragazzi ma di che stiamo parlando ma su ma scusate nel senso harry potter è un'ottima saga e il motivo per cui questa opinione di riccardo sta in piedi è perché l'unica oltre al signore degli anelli e signore gli anelli è una roba relativamente è un è un mattone grosso verso un grosso film è un grosso primo fin complesso che va affrontato ma molte persone non piace il principio ok e quindi sembra che harry potter e il signore gli anelli anche perché uno è urban fantasy e l'altro è hard fantasy stanno su due livelli diversi però se vogliamo effettivamente fare un confronto dato che ci sono due saghe fantasy nella storia cinematografica harry potter e il signore degli anelli quindi diciamo le cose come stanno ragazzi il signore degli anelli da una pista in faccia di harry potter su ogni punto di vista non è diciamo tutte le cose quindi parliamo dal punto di sta comparto tecnico di realizzazione gusto personale non è una questione di giusto personale non interrompere maolo c'è poco tempo è una questione che il signore degli anelli ha completamente cambiato la maniera in cui si facevano i blockbuster c'è un enorme cambiamento di come succedono le cose prima pre 2000 e post 2000 harry potter imita il signore degli anelli neri potter nasce per grazie alle tecniche signori anelli che diceva vedi si può fare forse possiamo farlo anche noi e comunque non ci arriva mai perché il livello di realismo che il fosso di elm e che gran burro ne hanno ancora d'oggi da una pista in faccia a quelle inquadrature fatte in cgi the hogwarts che diceva che è sta roba del una roba lego ragazzi veramente ci sono alcune inquadrini c'è ci sono alcune cose che non funzionano i nazgul ancora oggi sto concludendo il nazgul ancora oggi sono perfetti e ci sono un sacco di cose invece nell'ipoglifo stesso non è proprio sto capolavoro ragazzi nel senso vediamolo e non ultimo ma non per ultimo a me non piace tra gli oscar come una dimostrazione però è anche vero che harry potter ha preso il tot di nomination mai niente insegnare gli ha vinto tutti gli oscar che c'erano io sono andato a rivedere signori anelli adesso non hanno rimesso al cinema stavo impazzendo in sala ed è una cosa c'è è un film senza tempo una saga senza tempo che me la potrebbe rivedere tra vent'anni e non cambierebbe niente il harry potter è un bel film per ragazzi è un'ottima saga per ragazzi gli ultimi tre film sono una porcata commerciale perché si vede che hanno allungato e quindi il discorso è molto semplice il signore gli anelli grande saga fantasy harry potter bel blockbuster per ragazzi allora non abbiamo ricominciato il sondaggio è finito il sondaggio è finito il risultato dice harry potter è la miglior sana sa che c'è matografica fantasy sì e no vince il no col 61 per cento e il sì 40 per cento 39 per cento un commento che ha fatto molto ridere gli hobbit anche se nani pisciano in testa da grid sì come i nazi non posso portare lo posso portare voi ma di cosa stiamo quindi no quindi no vince il no 60 40 no vince no allora allora intanto nel senso sia dobbiamo io devo mettere nelle nel calderone il fatto che questa discussione non la stiamo facendo soltanto anche perché marco ne ha parlato non la stiamo facendo soltanto tra i rivolte del segno gli anelli perché però come saga fantasy dentro che stanno tante altre cose quindi questo lo devo considerare non esistono solo loro due all'interno della discussione si arriva la polizia e lo sia morto qualcuno nel mio quarto speriamo io sono io che sa che se adriano fa una pagliacciata sono io che mi sento male eccolo lì allora allora io questa serano su harry potter e signore degli anelli già abbiamo sentenziato harry potter ha vinto signori per questo che io e per questo che mauro secondo me se l'è giocata male perché proprio perché quando le fantasie che devo dire le altre fanno cagare fanno tendenziare no riposte del secondo ragazzo 2 se la sei giocata male perché tu avresti dovuto pensare a come la vita all'epoca quando no a come la fine all'epoca quando proprio erano harry potter contro signori ora io io sto credo che sto per fare qualcosa di non mai visto su questo su questi schermi mai accaduto come finale di puntata ma che sto per fare questo perché questa sera siete stati bravi e io decido che a vincere no che la miglior saga cinematografica di sempre è harry potter a pari merito col signore degli anelli adriano adriano prendi la maglina all'inferno prendi la maglina prendi la maglina salve no però perché no ha vinto riccardo come è come tamberi e quell'altro alzato in alto è uguale è uno share è un con una condivisione di oro quindi bravo riccardo perché sarei stati comunque bravi no pagliaccio che è la prima volta che sento un giudizio realistico in questo format democraziano ricorso incazzazione con pagliacciata e sì quindi vabbè perché alla fine è vero siete siete stati bravi sia in difesa e che in accusa vi ricordo che comunque con questo format lo facciamo sempre funzionare che poi cerchiamo di far vincere o comunque di giudicare quello che viene detto qui senza basarsi poi troppo su uno storico quello che una verità è un giudizio un esatto giudizio a priori o sulla realtà dei fatti ma solo su come sono che poi è proprio il principio della giurisprudenza le prove come avvocato purtroppo così tra le prove che tu come avvocato riesce a portare a tuo favore purtroppo a malincuore però è così funziona così guardiamo vita di una curiosità ma tu hai letto i libri di potter che non ho capito ma no io sono arrivato dopo no io sono un po più grandicello e zio io sono più grande ed è li ho letti tutti che vuol dire perché c'era che mi capitano intende l'ho perso l'avevo verso il momento lì e poi non era più roba non l'ho sentito più mio quindi no comunque bravo bravo riccardo che quindi comunque anche lui si porta a casa una vittoria quindi questa sera vince la difesa della prima opinioni a questo punto salutiamo riccardo grazie riccardo per essere grazie riccardo sempre divertente riccardo sappi che hai vinto ma va bene così il trono del muori da soli che parliamo di tutte quante le differenze non è che odio signore canelli anche a me piace mi abbonisco un po me mi annoia quindi salutiamo riccardo e facciamo arrivare ciao riccardo grazie adesso buon trasferimento a milano facciamo entrare davide e parleremo dei di matrix ragazzi perché pure qui attenzione ci saranno ci sarà sangue che scorre perché questa sera siamo tornati in pagliacciata tanto ormai qualsiasi cosa io faccio di qualunque è stato demografico e a riportare superiore si subito nella pagina ragazzi io vi ricordo approfitto di questo intermezzo per dirvi che questa domenica siamo in live dalle 10 e mezza di mattina per 12 ore per lanciare la nostra idea del progetto short movie live faremo un corto il live insieme che ci prenderà tutti i mesi da qui fino a fine novembre tra organizzazione scelta dell'idea eccetera eccetera fino alle riprese voi vedrete ogni fase e la lanceremo alle 21 e circa alle 21 e 30 con il buon cidonia che sarà con noi ma prima di avere alle 21 e 30 avremo ospiti tra vari format every eye con il buon fossetti e victor lasno matioschi violetta rocks kalel e moon ride e faremo un sacco di roba e tutto quanto sarà per beneficenza per l'associazione italiana scherosi multipla quindi questa domenica siete impegnati non potete andare al mare perché tanto c'è brutto tempio spero ci sia brutto tempo così donate simpatico marco si stanno a casa vabbè se vanno al mare basta che prendono l'ipad se lo porto il cellulare cose allora è arrivato davide facciamo entrare davide facciamo entrare davide ciao davide eccolo qua ciao davide ciao 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 a tutti con la maglia di metal slug bellissimo ciao da dove dove sei allora io abito nella provincia di vicenza e sono contentissimo di vero intanto vi saluto tantissimo grazie davide e ho 19 anni sono uno studente di un istituto tecnico che inizierà il quinto anno adesso a settembre giovanissimo davide si seguo da parecchio li stimo molto complimenti per voi per i vasti vari format grazie una domanda tecnica essendo avendo 12 19 anni non ti giuro non vuole essere un insinuazione mai effettivamente mai potuto giocare a metà slug su su un neo geori e ok dico quindi su un neo geo mai su un su un cabinato non scusate nella mia curiosità ne ho visti ma all'inizio giocavo su ps2 e basta ok scusate che ho speso una quantità di soldi infinita è giusto no voglio fare una domanda effettivamente davide tu quindi non hai mai giocato a un cabinato e no bene ho visto e ho anche giocato no 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 di un generale sul cabinato si ci avrei giocato su un preso qualcuno qua qualcuno magari picchiaduro credo di sì non ricorda soltanto ragazzi ma che sarebbe roba da boomer sì esatto e ok allora davide non ha mai visto le dire no è vero che non aveva mai viste non lo so non l'ha mai usato avanti non è interessante ok dai abbiamo detto che ci parlerai di madrix e quindi siamo tutti molto preoccupati no curiosi diciamo di sentire qual è la tua opinione di questa sera quindi forza e ti prego facci facci sognare allora la mia opinione di questa sera molto pericolosa è che madrix sia un film sopravvalutato ma oddio aspetta madrix è un film sopravvalutato non tutti e tre il primo di matrimonio primo primo film allora ragazzi ragazzi no prima del pronostico io sento ho bisogno di siccome lo vedo in grande spolvero questa sera ho bisogno che questa opinione abbia a supporto qualche cosa di importante e quindi mauro io penso proprio che tu debba essere schierato comando in difesa si domanda gli abbiamo letti tutti i libri il libro di maris famosissimo libri l'abbiamo avessimo libro di madri sono i fumetti di gibson si è dei fumetti quindi allora pronostico attenzione vediamo come l'hanno scritto il pronostico in chat ma da quale valutato schieri ok è in difesa a favore dell'opinione all'attacco contro l'opinione quindi in difesa vuol dire che secondo voi matrix è sopravvalutato per adesso sta vincendo l'attacco primo film il primo film e non nella trilogia il primo film ci sta portando davide e nel frattempo ringraziamo qualcuno marco degli ultimi abbonati dai allora ringraziamo e le fabbri che si risuba per il decimo mese dice che è bello che siete tornati buon settembre a tutti buon settembre anche a te marty underscore bbb che si suba per il terzo mese martina 1401 che si suba per il sedicesimo mese geppelè che si suba per il nono mese sei lento marco cioni sei lento e scusa vado sul rap ale underscore xe underscore per il quarto mese dice buonasera a tutti è bello rivedervi mi siete mancati mister alex c96 per l'undicesimo mese in duia 96 08 per il quinto mese di fila tom underscore dema per il secondo mese di fila 10 mesi in totale marco cioni ma che è questo mannamolo bannamolo ciccio boscaiolo che mi fa molto rire per l'undicesimo ciccio boscaiolo e agamennonex per l'undicesimo per il trecesimo mese ben tornati i cani bentornati grazie e il sondaggio si sta per concludere mancano pochissimi secondi vediamo come si con cui ho realizzato scusatemi adesso che il nickname di prima era auto b a red nerd però che tu non faccio facevi la mia via oppure adesso auto b a red nerd ok io che leggevo auto birt no perché esatto perché io prima ho letto il suo commento e si riferiva a se stessa al femminile e c'era qualcosa che mi tornava con verde che poi significa barbe quindi non è un reale lasciata vanno a barbuta sempre piaciuta assolutamente solo era baruta marco donna abbaffuta ma poi faremo una live apposta per parlare solo delle tue inclinazioni sessuali non preoccuparti allora il sondaggio scusami baffi si la barba non la barba si baffi no no perché il detto è donna abbaffuta ora io non so adesso donna abbaffuta perché penso ci sia è un doppio senso ma veramente vogliamo approfondire questa questione è un detto è un detto messo in piedi da una donna abbaffuta comunque finito il pronostico credo ci sia anche un doppio senso vai col pronostico giovanni allora a favore dell'opinione 36 per cento attacco contro l'opinione il 64 per cento quindi per adesso o però mi aspettavo una roba aspetta cosa scusa ma sto pensando ma col pronostico di prima ma chi cazzo ha vinto quindi ha vinto riccardo ha vinto il pronostico ha vinto il progetto ha vinto riccardo nel pronostico quindi a favore dell'opinione si 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 ha votato per riccardo riccardo che come al solito due a ring e poi ring e finali mai davide è il tuo momento per iniziare allora allora secondo me matrix è sopravvalutato perché sostanzialmente secondo me film abbastanza se non molto sbilanciato per quello che è la componente action del film la componente filosofica della trama principale del film cosa intendo con questo allora intanto voglio già riconoscere il merito del film in quanto ha rivoluzionato diciamo quello che era il cinema di fantascienza con tutta una serie di cose con i balletti time e tutte queste cose qui che non voglio neanche metterle in dubbio è stato epico quello che ha fatto matrix però dall'altro lato secondo me questo è anche un difetto di matrix perché con una trama così originale come quella di matrix dove sostanzialmente si potevano creare tutti gli intrecci possibili toccando tutti i vari generi possibili della cinematografia si è andati a puntare sull'action che in certi momenti risulta essere quasi fuori luogo perché se la prima parte del film è venuta essere quasi senza action molto indagativa rispetto a cos'è la matrice cos'è la realtà la scoperta della vera realtà da parte di neo la seconda parte sembra essere quasi un film che poteva gestirlo che poteva essere interpretato da schwarzenegger cioè solamente opperma la maggior parte esplosioni e comunque combattimenti quindi sembrano completamente due film diversi quindi quello secondo me il dato negativo di matrix quella quasi aver gestito male la trama principale che era originalissima buttandola nel nel action e in certi momenti quasi momenti cringe cioè in certi momenti mi sono quasi sentito preso in giro cioè con le battutacce anche da parte di certi personaggi tipo trinity prima di uccidere un agente cioè seriamente vogliamo dire certe cose su in un film così profondo che è il tipo quando tipo tipo quando schiva qui penso sì 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 ok momento ho provato in momento ok non interrompiamo vai davide secondo me pur restando un ottimo film per esempio da 1 a 17 darei poteva essere da 10 gestendolo meglio magari non tastando così tanto l'acceleratore sulla componente action ma rimanendo un po più tiepidi e analizzando magari un po di più quella componente filosofica che aveva il film perché aveva delle delle premesse quasi a livello di di un trattato di cartesio c'è una cosa mai vista prima va nel solito action del genere action ok quindi dici che alla fine c'è del cliché in qualche modo dell'ex interno della parte action di matrix ok accusa giovanni di chi mi stai scaricando questa cosa vai tiro e parla e dopo mauro e parlare dalla fine di tutto fai giovanni ai sì 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 giovanni il signore perdona loro perché non sanno quello che dicono quello che hanno visto davidino caro allora c'è un problema grosso qui il problema grosso il fatto che io non volevo stavo scherzando prima dicendo vabbè c'ha 19 anni però è un po secondo me la fa parte il fatto che tu sia molto giovane il fatto dell'aver visto matrix dopo sicuramente aver visto tutta una serie di cose matrix o the matrix come vuole essere chiamato è è un film che ha segnato ha ha messo un po cioè tu immagina alla storia del cinema come una linea no a un certo punto arriva un certo giurassic park e fa una tangente e coperto e tutto cambia poi arriva metri una tangente nella linea della storia del cinema la tangente nella linea della storia il cinema la tangente di una linea di una linea che cos'è giovanni adriano fa devia fa una deviazione fa crea un nuovo corso ok poi è arrivato matrix o the matrix e non solo ha disintegrato tutto quello che c'era prima ma ne ha create altre 64 delle rette che vanno parallele da lì il cinema è cambiato tremendamente da tanti punti di vista non solo tecnico per cui ancora c'è gente che dice madonna santa meno male che ci siete stati voi a farci vedere tutta una serie di cose perché ci avete aperto un mondo diversi articoli su internet e diversi critici cinematografici parlano dell'epoca pre matrix dell'epoca post matrix di come cambiato il cinema ma non solo quello d'azione ma anche quello narrativo perché matrix è un film esatto ho cambiato la geometria e matrix è un film che ha fatto capire principalmente una delle tante cose che ha fatto che si potevano fare degli ottimi film d'azione mantenendo comunque una trama e raccontando una storia di un certo tipo e non per forza facendo semplicemente qua c'è il buono qua c'è il cattivo come nativi questo è una delle tante cose che ha fatto matrix perché è tutta quella che è l'azione all'interno di matrix che secondo te esagerata è assolutamente giustificata e resa spettacolare per quello che la storia ti racconta perché tutto quello che vediamo succede all'interno di un software all'interno di una simulazione e la spettacolarizzazione delle scene funzionano proprio perché si basano su quello che è una storia forte alcuni che vengono chiamati figli di matrix utilizzano lo stesso tipo di scene spettacolari però in un contesto completamente fuori da quello che è matrix invece in quel caso quello che è filosofia e non solo raccontato all'interno di quel film giustifica tutte quante quelle scene nazionelli poi ti ripeto non mi voglio mettere a toccare tutte le varie quindi andiamo spediti una cosa perché andiamo solo matrix non è assolutamente sopravvalutato ma per cui da molti è sottovalutato è il fatto che ha letteralmente cambiato la storia del cinema ha cambiato modo di fare ci ha creato una tangente non è ha creato una tangente e non è una cosa che si dice ogni mezzo a tante altre giustamente per dire come questa cosa ha cambiato la storia del cinema e poi non è vero perché tante altre cose stavano andando in quella direzione matrix ha messo proprio un punto e a un certo punto tutti hanno detto a cazzo ma quindi possiamo fare quella roba lì allora facciamolo perché non era una cosa dove tutti stavano per arrivare è una cosa completamente nuova totalmente diversa sia dal punto di vista tecnico e azione sia dal punto di vista narrativo che ha aperto un mondo e questa cosa e ha messo grazie giovanni prego mauro allora io voi mi sentite con questo accento relativamente neutro italiano giusto ma si non sembra non sembra campano giusto no cioè no sei vero un filosofo bravo adriano vedi allora che sai dove stavo andando a parare ragazzi lo facciamo velocemente ci leviamo davanti la filosofia subito è così poi la seconda parte parliamo di altro però io sono d'accordo con davide mi dispiace tutti quanti in chat mauro ti arrampicherai mi dispiace mauro mauro adesso si ammazza io sono d'accordo e attenzione sicuramente l'aspetto più importante oltre il secondo aspetto dell'aspetto visivo di matrix è un grande aspetto l'altro aspetto molto importante l'aspetto filosofico no quello che ha fatto esplodere la testa a tutti il film che ogni quattordicenne ha pensato wow ma allora sono fico perché io sono come neo ora io mi vorrei concentrare proprio su questo nel ser che io ho un esatto io ho risopato dicendo matrix perché se no dico matrix e neo però decidiamoci così dico playstation no no matrix e allora stavo dicendo la filosofia di matrix è una cosa per cui viene ricordato il problema è che la filosofia di matrix è molto superficiale un po banalotta e non lo è per volere delle sorelle guaccio se lo faremo sapere non l'anno non l'hanno affatto apposta non non è canto quello che bisogna farlo sapere bisogna farlo sapere a baudrillard a gianni e a baudrillard spero di averlo pronunciato bene perché il punto quale è che tutti quanti quelli che parlano di matrix lo associano a il mito più banale della storia della filosofia quello che insegnano al primo anno di filosofia a scuola ovvero il mito della caverna di platona noi stiamo in una caverna vediamo le ombre siamo convinti che quello sia il mondo invece poi usciamo fuori il mondo è diverso e quindi dobbiamo tornare dentro e dire a tutti quanti guardate queste ombre non sono il mondo e sei proprio un se pensi che le ombre siano il mondo vabbè quando morirà incontrerà il platone e ce n'è ora qual è il problema il problema è che matrix però non è basato sul mito della caverna matrix è basato su un film libro che che compare anche nel film che è quello dove lui nasconde nio nasconde le sue le suoi sette all'inizio sui flop e le sue cassette i suoi flop via rischio e che tra l'altro era talmente importante per la storia che fu data come richiesta imprescindibile a tutto il cast c'è tutto il cast e venne detto ragazzi dovete leggere simulacra e simula e simulacra e simulation che in italia si chiama in italiano non so come si chiami che però è questo libro di questo famoso simulacra e simulazioni simulacra e simulazioni credo di questo famoso filosofo filosofo francese di cui adesso sbaglierò il nome che è jambodriard credo si pronunci così ripeto ora qual è il punto è che il quello su cui è basato matrix non è il concetto di il mondo è una simulazione e noi dobbiamo uscirne quello che dice baudriard è più il mondo è entrato nell'era del postmodernismo in un scusatemi per le parolacce in un momento in cui limitazione e l'originale non si possono più distinguere tra di loro ok in cui un floppy disk e questo è un esempio pratico vi faccio è il simbolo del salvare su un programma in un'epoca in cui floppy disk non esistono più ok quindi è un mondo nel quale non si riesce più a distinguere l'originale della copia perché si è fatto una copia della copia della copia della copia della copia ok e questo che volevano far passare le wachowski era questo era il concetto di essere in un mondo che limitazione di stessa loro a un certo punto parlano del sapore di una bistecca quella bistecca loro non hanno mai assaggiata tecnicamente ok quindi loro non sanno qual è il vero sapore della bistecca quando poi escono dal matrix nel e dicono questo questo cibo non è buono quanto quello che noi mangiamo prima tecnicamente loro non lo sanno quanto è buono il cibo perché non l'hanno mai mangiato quella è l'unica parte che davvero riesce a a parlare di questa cosa però il resto del film a un messaggio che si perde nel banale che quello di finto il gelbo e il vero devi distinguere quale il vero uscire fuori e tornare indietro ora perché vi ho fatto tutta questa pippa perché il punto è che la matrice filosofica del film risulta poi troppo distinta ovvero c'è fuori e c'è il dentro c'è la parte simulata e c'è la parte reale che però non era quello che loro volevano far passare infatti baudrillard secoli dopo non secoli dopo anni dopo quando viene chiesto un'opinione sul film quando viene chiesto un'opinione sul film disse cosa ne pensi di matrix che viene chiesto di partecipare alla realizzazione del secondo e terzo film rifiutò perché lui il film aveva fatto cacare e disse questa cosa che secondo me è indice di quanto il film sia banale nella sua componente filosofica disse il matrix sembra esattamente il tipo di film che il matrix il matrix realizzerebbe sul matrix c'è il concetto è che è un film che banale non hai capito un cazzo ho capito è un film che banalizza il proprio stesso no no me ho capito tanto da fatti fa credere per farti credere di aver raggiunto un livello di istruzione superiore ma ti ha semplicemente spiegato il mito della caverna di platone che ti insegnano al primo anno delle di filosofia bravo allora una roba complicata ragazzi hanno tutti è la tipica cosa che indica quando vengono detti i paroloni così di fatto intelligente perché nessuno qui abbia capito un cazzo di quello che ha detto oro zingarelli mi sembra di essere tornato a teo mammuccheri che fai super cazzo lei vip io non ho capito niente quello che hai detto a parte che sei riuscito anche su matrix a tirare fuori la questione che non è paragonabile al libro era di più ma ci sei riuscito prima cosa secondo poi ti giuro vorrei far partire un sondaggio chi cazzo ha detto oro zingarelli l'avete capito sì o no io penso che 85 per cento direbbe no e non si può fare ovviamente giacomo che non si può fare io credo di essere voce del popolo in questo caso piuttosto che cita allora io credo decide lui magari no io credo come i migliori citato e filosofie piuttosto che cercare di resumare gianni anche nei live in cui non ho fatto che l'hanno fatto loro hanno detto tutti quanti non mi legge questo libro non mi faccio far film io a parte che ho molti dubbi che tutti ad oggi è vero è vero è vero è vero che fa morpheus è letto ma sarà era nella clausola del contratto c'era c'erano domande a caso sul libro nel contratto se rispondevano bene firma non sono niente se non ho comunque detto questo io andrò molto sul semplice qui stiamo cercando di dire che di matrix è sopravvalutato può essere scusatemi può essere invalidata l'opinione di marco perché appena detto stavo pensando scusate vabbè ma abbiamo passato la valutato che è quasi una bestemmia di me che dice di matrix si si infatti di matrix allora è facile sai perché quello che ha detto davide secondo me non torna perché matrix è quel film incredibile che riesce ad ammettere insieme e d'accordo gente tipo gianni e marina che cercano l'autorialità e la filosofia è sempre qualcosa di super profondo e super cervellotico con chi invece tipo giovanni o persone magari tipo anche me che ogni tanto se vogliono sedere e godesse una roba in cui se menano in cui te fomenti è una roba che se io ci penso ore di menare non riesco a pensare a un film che riesce ad essere profondo avere un messaggio che c'è dietro un pensiero molto complesso che si rifà tutta una serie di elementi filosofici che mauro ci ha spiegato forse non lo so io non l'ho capito e c'è anche la componente action cioè è l'unione perfetta di queste due cose piace a tutti sta lì ed è quello il punto quando davide dice è la parte action stona nozio matrix e funziona proprio per questo perché riescono a equilibrare in maniera perfetta la filosofia il significato del film la volontà di mandarti un messaggio e le componenti di super fomento in cui se poi arriva trinity e gli dice artizio adesso schiva questo io mi arzo in piedi e dico schiva questo faccia così brutto stronzo capito perché te fomenti è così quanto quello che fai prima di ogni rapporto sessuale salutiamo elena ciao elena ti vediamo bene questo è il punto di matrix unisce questo unisce la volontà di essere dei cazzoni di spararsi di vedere proiettili volare c'è quella scena ragazzi la scena in cui lo distruggono l'atrio di quel palazzo quanto cazzo è bene ne riparliamo di quella è pazzesca davide tu evidentemente non so che il problema personale tu abbia però non c'è il cringe lì non c'è è una scena sopra le righe ma perché però un videogioco stanno dentro un videogioco davide dei capito una simulazione virtuale sono praticamente ragazzi se ci pensate quelli mio morpheus sono i cheater dei videogiochi loro c'hanno i trucchi e quindi possono fare cose che non sono previste all'interno del del matrix e quindi poi fanno delle cose assurde tipo fermare i proiettili se sei l'eletto tipo sfondare un altro di un palazzo in maniera improponibile perché sono i cita c'hanno i cheat e quindi poi funziona scusa per adriano voglio che tu mi fermi a riflettere su questa cosa se tu metti uno che ama fast and furious e che però c'ha il cosetto intellettivo a 5 e uno che invece è un professore di filosofia davanti a matrix insieme si godono entrambi un film quanti altri film possono farlo interessante questo punto di vista prima di ricominciare ringraziamo un po di abbonati perché come al solito voi che vi abbonate che regalate abbonamenti ci fate sempre stare in fissa poi marco e le fabbri si suba per il decimo mese dice che è bello che siano tornati wizard 961 si suba per la prima volta benvenuto mister 87 b si risulta per il secondo mese a livello 1 pietro celano si è subato per la prima volta benvenuto cristiano cavo 90 si suba per il quinto mese e jane air jane air perché il 3 jane air come la scrittrice credo sia la scrittrice a personaggio personaggio e si suba a livello 1 per la prima volta benvenuta o perché soprattutto prima di andare avanti vi ricordo che regalare abbonarsi e regalare soprattutto abbonamenti vi è la forma di sostentamento di questo progetto che noi preferiamo ma soprattutto per il prossimo progetto del corto essere abbonati sarà fondamentale per decidere le sorti proprio del cortometraggio davide ritocca a te mi raccomando ricerca di essere carico rispondi a tutto quello che hanno detto perfetto allora voglio partire dicendo che io sono il primo che riconosce che sia importante unire l'utile direttevole soprattutto nel cinema perché essendo diventato appunto un mercato e non più un'arte purtroppo anche sia importante mettere quella componente filosofica anche è quella che possa intrattenere i spettatori magari che ricercano un messaggio più profondo che le solite sparatorie e la componente magari divertente che tenga alta il ritmo e che faccia stare in fissa appunto gli spettatori che magari se vogliono solo vedere godere sedere e godere due ore in pace vedendo magari un qualcosa di leggero comunque di divertente riconosciuto questo dico che metrix e resta comunque sopravvalutato perché non sono d'accordo sul fatto che si trovino bene queste due parti c'è proprio sembrano due film diversi a un certo punto la prima parte è la scoperta che fanno io della realtà la seconda non tocca neanche più quegli ambiti a un certo punto sembra quasi un altro film quindi non si perde quella quell'idea geniale che c'era la base quindi secondo me non c'entrava col film cioè sembrava un'altra roba infatti mi ricordo che c'era su youtube una locandina del film queste c'erano queste locandine minimal in cui si c'era un elemento del film dei film di kubrick per esempio c'era una citazione e per metrix non c'era la chiave del film che era la pillola rossa e la pillola blu almeno secondo me c'era la pallottola con scritto schiva questa cioè quindi nella cultura pop comunque nella cultura popolare si ricorda quello di metrix quindi evidentemente secondo me almeno si ricorda per il motivo sbagliato non per il messaggio di fondo per tutta quella tematica di le macchine si sono ribellate le macchine hanno trasformato gli uomini in in fonti di energia che è interessantissimo che nella prima parte viene spiegata molto bene che interessantissima che io vorrei esplorare di più poi nella seconda parte boh sì ci sono le seppie che cercano loro però anche no nel senso non ci si ricorda più quella cosa e poi io l'ho rivisto proprio oggi il film mi sono domandato ok hanno trovato l'eletto ma qual era la trama cioè cosa volevano fare con l'eletto ok forse avevano già pensato alla trilogia all'inizio quindi hanno detto dividiamo il film in tre però sembrava solamente secondo me è un esercizio di stile cioè troviamo l'eletto è un pretesto per poter mostrare appunto i cheat del metrix e quindi fare queste cose assurde nel metrix e poter mostrare gli effetti speciali che possiamo fare nel 2000 quindi questo secondo me secondo me è il metrix mai se secondo me metrix è non si sposa bene action e filosofia perché è come andare in un ristorante stellato per una cena elegante e ordinare un panino punto diremo noi ok 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 c'è vai da chef cannavacciuolo e poi gli ed il cheeseburger quello è esatto sembra quello con le coi funghetti quelli idee da bancarella devono stare di queste quattro di mattina sì allora ok che ricorda giovanni li tocca a te mi raccomando a parte di amici a parte citare una usare un paragone culinario giusto perché a mauro funzionano non ha senso però tu non puoi basare la tua opinione su un film come quello dei metrix solo per un cazzo di meme che trovi su youtube c'è dai non si può sentire una roba è una cosa di mercandise no non è una cosa di mercandise è una cosa che lui ha visto su youtube dio solo sa dov'è perché il mercandise schiva questa non semmai io prendo da nessuna parte io prendo per buono quello che era una locandina minimal che ha visto lui si riferiva semplicemente al fatto che nella cultura pop e quindi di chi ricrea le manarine esatto c'è schiva questa non si sa per quale non si sa se vuole che scorreggia non si sa per quale motivo o frodo coi piedoni il signore degli anelli no perché sennò cambiamo la cosa di prima il signore degli anelli e frodo coi piedoni non mi pare quindi non si può basare l'idea che ha che sia di un film solo per cui un qualcosa che qualcuno ha creato sul web perché non era assolutamente il mercandise ufficiale ma andiamo avanti su quel perché il mercandise ufficiale degli anni 90 nozio non era forse andiamo avanti e andiamo avanti rispondendo a quello che diceva mauro prima che faceva a parte che comincia la marca di nuovo cita del libro io mi ricordo di un certo si vien king autore di un certo libro che si chiama shining che detesta pieno il film di un altro tizio che si chiama staley kubrick che ha girato un film che si chiama shining non per questo mi verrebbe da dire che il film di shining è una merda semplicemente perché l'autore del libro steve and king ha un'ideologia sono due cose l'esempio l'esempio sarebbe il torn che dice che intersella non c'entrò una sola perché continui a parlare sopra perché continui a parlare sopra fate parlare giovanni tu hai citato tu hai citato un libro dicendo che il suo autore detesta il film l'ideologia filosofica da cui è tratto però hai citato ideologia filosofica da cui è tratto dicendo che l'autore di quella ideologia filosofica ha detto che il film non gli piace e tu a questo hai detto che quindi il film una merda perfetto l'autore di shining steven king ha detto che il film shining di kubrick non gli piace questo vuol dire che il film una merda non mi pare no abbiamo capito perfetto quindi andiamo avanti sto solo sottolineando questa cosa purtroppo davide il film non so il film matrix non sono due cose totalmente differenti un personaggio magari te lo spiego anche se io non sono in grado di spiegartelo ma ci provo un personaggio dalla scoperta di un qualcosa al dopo di che ha una sua evoluzione la storia si evolve non può rimanere sempre alla scoperta di quello che è la situazione quindi matrix da dove lui proviene quella è la situazione del tempo eccetera eccetera dove che deve agire la storia si evolve la storia va avanti in questo caso nel caso di matrix dopo la diciamo la presa di coscienza di nio di quello che è il mondo che gli si pone davanti a quel punto poi il personaggio procede lui decide di agire e decide di aiutare una causa sto parlando proprio della storia nella nella sua base senza andare troppo sotto filosofia cose eccetera eccetera perché quelle sono sotto sotto strutture molto interessanti molto belle c'è un sacco di gente che si ferma solo ad analizzare il film secondo varie teorie filosofiche sono persone che si fermano un po più su ci sono persone che vanno ancora più in fondo ma rimaniamo alla base quindi il personaggio una volta presa coscienza di quella che è la situazione dopodiché agisce prende una posizione da lì comincia il cammino dell'eroe c'è la scoperta e dopo di che alla fine di quello che sarà la trilogia anche se in realtà matrix era pensato come un primo film il 2 e il 3 sono stati concepiti sono sa esatto sono stato quasi tutte purtroppo hanno sta storia c'è il primo viene fatto come unico incassa un sacco di sordi e dicono famer seconda e terzo dagli e stessa cosa è successa in matrix infatti il 2 e il 3 sono stati girati insieme quindi il personaggio si evolve cambia arriva a un certo punto arriva a prendere coscienza di quello che è quindi l'hai letto questo cosa significa di base nel film è circondato da una spettacolare realizzazione realizzazione che ripeto e matrix a è uno dei pochissimi casi se non forse l'unico ma no esagero dicendo l'unico perché dopo è uscito sto mondo e quell'altro è unico di quei pochissimi casi dove quello che vedi è assolutamente perfettamente giustificato e coerente con quello che ti raccontano e non è sempre così perché molte volte tu vedi personaggi normali fare cose sovrumani o fare cose assurde o uscire totalmente fuori da quello che è la storia invece in matrix è tutto assolutamente tremendamente coerente però è ovvio che il personaggio una certa deve evolversi deve arrivare a prendere veramente coscienza di quello che è perché all'inizio del film gli dicono la situazione è questa tu sei l'eletto tu sei quello che porterai tra virgolette permettetemi la citazione equilibrio nella forza ma una cosa è quello che ti dicono una cosa è quello che tu poi devi comprendere e questo a noi ci dicono sempre quello che dobbiamo essere quello che dobbiamo fare nella nostra istruzione ce lo dicono sempre ma è facile che qualcuno te lo dice poi devi essere tu nella tua crescita devi essere tu nella tua crescita ad arrivare alla consapevolezza di quello che sei e nelle mille cose che racconta matrix nella struttura proprio base c'è questo c'è il viaggio di neo ad arrivare alla consapevolezza di quello che è l'eletto e questo arriva a fine film e in quel caso per quella storia lui ha bisogno di vedere fare succedono tutta una serie di cose spettacolari per poi arrivare a essere l'eletto l'ultima cosa e concludo la scena della scena d'azione del combattimento quello nel dojo dove neo impara insieme a murcia morfius come combattere quello potrebbe essere visto come solo esclusivamente una scena d'azione ma non è una scena d'azione perché c'è morfius che cerca di insegnare a neo tu sei quello che vuoi essere e lì in quella scena mio cresce comincia il suo percorso di consapevolezza in quello che è all'inizio non riesce a muoversi e alla fine riesce a buttare giù morfius e questo matrix e tutto grazie viene raccontato in maniera incredibilmente spettacolare e non è un neo basta è un neo e parola a mauro allora cercherò di essere molto veloce allora intanto per chiarire brevemente la questione dicevo prima per farvi un esempio filmico lo sapete un film che invece è piaciuto molto a baudrillard the truman show perché il concetto era quello lì ovvero il concetto di la differenza tra la simulazione la vita vera lui ha vissuto una vita simulata ma ha vissuto una vita vera fatta di amori che lui si è tenuto quindi qual è la differenza tra la simulazione e la realtà è questo quello che volevano dire le wachowski che non hanno sono riuscito a dire quindi questa era una postilla alla alla parte precedente giusto per farvi un esempio di quello che volevamo che volevo dirvi all'inizio detto questo lasciando la parte contenutistica alla parte alla ringa precedente io passo alla questione visiva rimane di di matrix una grande come dire una grande eredità di cose viste che dice a questo proprio matrix no ora la mia la mia ring adesso si baserà sul fatto che purtroppo il motivo per cui matrix è sopravvalutato è perché è estremamente derivativo è quasi tutto copiato da altre cose adriano tu sei un grande fan di matrix no se tu pensi alla scritta matrix cosa cosa pensi qual è la l'immagine storica di matrice che ti è quella verde tutta con tutte le cose ok con i caratteri che escono ok perfetto ora nel 95 esce un anime giapponese molto molto popolare in giappone poco popolare in america le sorelle wachowski lo vedono vanno da joel silver che il produttore di matrix li fanno vedere questo film e gli dicono noi vogliamo fare questo ma ha fatto a film e lui dice no no questo anime è un film si chiama ghost in the shell si chiama ghost in the shell hanno fatto una brutti un bruttissimo adattamento live action con scarlett johans recentemente che vi dovete dimenticare ma c'è un film del 95 ragazzi è identico è lo stesso film cioè ci sono c'è la matrice di numeri verde c'è il concetto di identità personale ci sono le scene d'azione sono molto molto simili c'è l'inseguimento addirittura ragazzi c'è l'inseguimento che finisce con i meloni con le angurie distrutte è uguale nel senso non è uguale nel senso per caso è uguale nel senso che sono loro che vedono una cosa e dicono fichissima è stata fatta in giappone non se l'è inculata nessuno vogliamo rifarla con un gusto americano con uno stile più aggior più più giusto per il pubblico americano ma è uguale ragazzi è proprio identica cioè nel senso le scene sono prese pari pari e questo per tutta quanta riguarda su da quel film got in the shell un bot è un capolavoro poi per non parlare tutte le cose che sono prese da akira prendono un botto di roba dall'animazione giapponese so quello che sto dicendo quello che sto dicendo che il film nella parte visiva che è quella molto 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 ricordata osannata è praticamente una copia c'è addirittura la protagonista viene a quattro buchi dietro il collo con cui viene collegata al alla rete con della quale fa parte la storia na kimba come era lì esatto c'è la scena e leone abbiata è vero c'è la scena in cui viene tirata fuori da questo lì nuda insomma tutta una serie di cose ragazzi è proprio molto molto simile questo per quanto riguarda l'aspetto visivo ok è anche un po l'aspetto filosofico relativo a che cosa siamo cosa ci rende noi stessi se ci rende vabbè ma quello è tutto un altro discorso guardatevi cost in the shell ora un'altra cosa e le scene di combattimento non c'è l'azione sparatorie fighissime la scena del della come si chiama la bullet time l'atrio esatto la scena dell'atrio che uno diceva ragazzi però quella rivoluzionato la storia del cinema bla 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 eccetera eccetera no no però è una di quelle cose di china in effettivamente in america la mia volta si vedeva peccato che a hong kong c'era john wu che faceva quella roba da cinque anni ancora una volta nel 95 john wu faceva hardboiled che a quelle scene di sparatoria ragazzi sono uguali c'è c'è la sparatoria con un botto di proiettili vengono sparati un sacco di agrobazie le scenografie che vengono distrutte eccetera eccetera fighissimo le watch skin hanno fatto benissimo ed è stata una cosa un ottimo adattamento quindi quello che sto dicendo vi sento già arrivare quello che vi sento che vi sento già arrivare io non sto dicendo che il film esatto io non sto dicendo che il film non sia valido per questo motivo ok io sto semplicemente dicendo che quando si dice che è sopravvalutato all'interno di questa di questa di questa opinione è che gli viene dato credito per una serie di cose che non sono merito loro c'è il film è fichissimo è un'unione di tante giusto di chi sime ma è sopravvalutato perché quelle cose quello che ha fatto matrix mettere insieme questi elementi che magari adesso marco mi può dire che abbastanza però per me per un film che viene ricordato per aver inventato una serie di cose non c'è non c'è perché non le ha inventate le ha prese in prestito e le le ha appiccicate tutte insieme posso andare arco giugno allora sarò molto breve mauro zingarelli ci ha fatto un elenco di cose fichissime bellissime che però a un certo punto ha detto nessuno se l'ha inculato in europa in america ovviamente matrix invece guarda caso ha visto tutto il mondo ha fatto un successo planetario quindi noi stiamo dicendo che un film che si basa su elementi che lo stesso mauro ha ritenuto essere di ottima fattura che siano sia le scena per le scene d'azione sia per la componente diciamo legata anche alla parte visiva e anche alla componente di messaggio io farò una cosa sbagliatissima e manderò un video ad adriano quella roba zio però adesso scusa ma lo farò lo farò vai marco 9 per non interrompere mai quella roba lì che abbiamo detto che è fichissima e tu hai detto che le faccio che hanno fatto un ottimo adattamento ci hanno tirato fuori un film che è piaciuto a tutti che la critica cinematografica ha definito come un capolavoro perché capolavoro è ciò che fa partire un nuovo filone come diceva prima giovanni e poi l'opinione che stiamo sostenendo è che sia sopravvalutato ora per quanto un film magari mauro ok concordiamo sul fatto adriano ascolta a me non guardare il video che ti manda guarda lo guarda lo guarda non sto guardando e sotto metti la sotto allora anche perché non è mai non fermo domanda in chat possiamo anche parlare mi vido del commento di mauro giacomo non lo guardate adesso però non lo guardano la giacomo allora il punto è questo quindi io non voglio dire che matrix è un grande film perché ha cambiato la storia del cinema ok eliminiamo questa questione che ha cambiato la storia del cinema prendiamo il film per così com'è ti siedi e ti vedi film dopo che abbiamo detto che cita tutta una serie di cose pazzesche che si rifà una serie di cose pazzesche e che tutto il mondo l'ha apprezzato l'ha visto e ha potuto prendere quelle cose che magari nessuno si era inculato per tutta una serie di motivi perché magari non erano stati in grado di renderlo pop e action come hanno fatto le sorelle wachowski quindi noi stiamo dicendo che questo prodotto preso così com'è è sopravvalutato se mi sembra una cosa saggia da dire adiamo santucci per di questa responsabilità già mi ha bannato sono stato censurato giacomo di a cancellato un messaggio che tu per il tuo ruolo non puoi mandare quindi è giusto così giacomo prende io posso farlo ne si impone allora se non abbiamo finito i due giri via il sondaggio in chat perché comunque inaspettatamente alla fine la difesa riuscita a dire delle cose non è proprio cosa è stata aspaltata la difesa quindi via il sondaggio in chat via la ringa finale vai davide mi raccomando cioè un minuto e mezzo allora di giocare tutto adesso se rispondendo velocemente a quello che aveva detto giovanni prima allora non era un meme era il marketing ufficiale di youtube che aveva usato come campagna queste locandine minimal per tre film di kubrick e che mi ricordo e matrix youtube non la warner vabbè 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 ok poi sorvolando su questo e volevo dire che decidono di farlo è perché sanno che venderanno quello il concetto youtube però non la warner vabbè ok però non è che abbiamo capito sì per vendere perché per non vendere no se matrix è il grande capoloro di cui stiamo parlando mi chiedo allora perché se ha un'idea così originale che poteva letteralmente mostrarmi tutto e a non ha allora rivoluzionato quella parte action perché allora sembra un normale film action di john wu appunto aspetta nel frattempo che ha preso mostrare scusa zingamao che arriva in chat e dice sono tornato merda è sempre lui vai davide perdonati ti faccio recuperare il tempo perdone sì sì poi un'altra cosa che volevo dire cioè quello che demolisce definitivamente secondo me il film dividendo letteralmente le parti action e la parte profonda e la scena finale in cui si vede nio che schizza come un tappo di spumante verso il cielo cioè quella parte proprio mi ha fatto dire ok è stato un'idea sprecata perché poteva essere sfruttata benissimo come hanno fatto sempre gli stessi autori wachowski con claude atlas mettendo insieme comprende ritmo action e fantascientifica e una parte profonda però no hanno deciso di puntare molto di più soprattutto nella seconda parte sulla parte action arrivando quella punta di diamante che è nio che schizza come superman verso il cielo cioè la letteralmente mi ha fatto dire questa questa idea è stata sprecata per far vedere i muscoli per far vedere gli effetti speciali per far vedere le sparatorie ed è stato peccato perché poteva essere un film da 10 senza problemi perché era perfetto per i primi 40 minuti poi sono cominciate le sparatorie è andato sempre calando accusa allora le parlare marco ricapitolando ricapitolando la questione è davide matrix è un film sopravvalutato perché a un certo punto c'è l'azione che ti porta fuori dall'idea che tu pensi dovesse essere quella che andava portata avanti dalle sorelle wachowski cioè di questa grande idea che non è stata non è stata realizzata nel modo adeguato ora io mi chiedo no se tutto il mondo cinematografico dalla critica al alla persona che si siede al cinema quando vede di matrix sta in fissa totale no ma ci sarà un motivo se poi alla fine della questione è un film che ha sconvolto la mente di tutti quelli che vivevano quell'epoca e che forse oggi vi vedendo vedendolo dopo tante altre cose può sembrare per le tematiche già visto ma comunque per la parte di azione resta ed è la scuola del cinema io non capisco perché noi ci stiamo concentrando sul fatto che l'idea poteva essere sviluppata meglio secondo davide quindi questo ci porta immediatamente a dire che un film che tutto il resto del mondo ha reputato come qualcosa di essenziale della storia del cinema improvvisamente diventi sopravvalutato questa roba non sussiste nel momento in cui stiamo parlando di un film che è a livello unanime da tutti riconosciuto come qualcosa di fondamentale da vedere cioè se tu entri nella scuola di cinema mauro poi magari vi dirà che non è così prima di regia alla prima di regia non credo però uno dei film che ti dicono sempre di vedere se tu vuoi fare il regista lo sceneggiatore quello che ti pare è matrix perché ha sopravvalutato o forse perché c'ha tutti gli elementi che ti possono far capire bene come si scrive e come si mette in scena un film che è quasi perfetto allora io devo dire mentre mancano pochi secondi col sondaggio che questa opinione era dal dal pronostico proprio data per perdentissima poi ha iniziato non benissimo secondo me però devo dire che poi nel dipanarsi della discussione sono state snocciolate dalla difesa tutta una serie di tematiche interessanti quindi secondo me a mio giudizio non è proprio così netta la decisione è infatti attenzione perché guardami il sondaggio giovanna già dice no il sondaggio dice no per il 52 per cento si per il 48 per cento quindi the matrix cioè ragazzi è un 52 48 è un e pagato fior di quattrini profondatamente 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 anche no perché stavo votato hanno votato 238 persone su 700 giovanni volato di finirla di fare questo non è a tuo favore ma il sondaggio è a mio a mio favore in realtà e ma di poco come stavo dicendo come stavo dicendo appunto all'opinione di davide secondo me non è partita la grande però poi come un ottimo diesel si è si è ripresa e hanno portato delle cose interessanti e delle opinioni interessanti però c'è da dire anche che c'è adriano guarda il video adesso non posso vedere ora guarderò il video quello che voglio aspettate un attimo alla fine comunque io credo che nelle opere d'arte a dar d'arte più grandi di tutte le arti che ci esistono alla fine siano un insieme una commissione di tanti ispirazioni perché poi secondo me il genio è proprio quello che riesce a prendere tutto quello che nella sua formazione trova interessante a riformularlo ea creare poi a portare tutto a un livello successivo e per quanto poi la difesa si sia comportata e battuta bene io però penso che quello che ha fatto matrix sia stato proprio questo ha alzato il livello e l'ha portato sul livello successivo quindi mi dispiace davide ma purtroppo matrix non è non può essere considerato un film sopravvalutato mi dispiace era molto difficile davide questo opinione che tu hai portato è bello quanto il sondaggio è 55 vabbè però proprio perché io dico sempre questa cosa che secondo me leggete cosa dice 2 cosa dice si dice ho visto il video è uguale si identico ma sti cazzi allora prendiamo tutta la cinematografia di tarantino e buttiamola nel cesso tutta in te dall'inizio ma infatti che cazzo vuol dire bene ma questo questo è post opinioni pericolose già la cosa più difficile da fare è dire che è una cosa molto bella è bella perché a un certo punto se ti ripeti nello scontato arrivato a certi momenti è quasi più facile dire che è brutta perché cioè io mi ritrovo più in difficoltà a dire che è bella perché non so che davide grazie 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 per aver partecipato per averci iscritto e aver portato un'opinione comunque molto molto tra le più complicate che noi abbiamo visto qui ma tu hai visto anche il due sante davide e li ho visti ma diversi anni fa non li ricordo neanche troppo sinceramente no ma io mi concentravo principalmente sul primo comunque apprezzo il fatto che tu abbia apprezzato claudatras che invece è super bistrattato potevi portare l'opinione claudatas è un grande film ma non era pericoloso invece claudatras è proprio quella cagata fuori dal vasetto perché claudatras è molto controverso al contrario di matrix claudatras è tanto una prossima volta davide tu preparati tra un paio di mesi e c'è il libro quindi ci divertiamo grazie per comunque il sondaggio non è stato così drammatico quindi ciao davide noi voi fate una pausa e facciamo un minuto di pausa andiamo dire andiamo ciao davide continuate così buona serata grazie a seguirci ciao ciao ci vediamo ragazzi domenica alle 10 e mezza per la maratona per beneficenza live tanti grandi ospiti e bus che parla del corto in live e voi sarete protagonisti quindi siateci se volete diventare fautori di un'opera cinematografica ciao grazie mille buonanotte ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ciao posso chiudere posso preemple grazie a tutti ciao 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 non ci sentono più bello ciao mauro belli in realtà ci sentono quindi io volevo dire volevo dire quelle teste di cazzo sto scherzando ragazzi ci sento carini belli bravi buonanotte belli bravi buonanotte ci diciamo di molto peggio